Ciao amici, come state? Benvenuti, benvenuti nella nuova puntata di Radio Tomodashi, ciao a tutti, ciao alla chat Oggi c'ho il cappellino, il cappellino cringe che mi ha regalato il buon Shamsi In realtà gliel'ho preso e poi non gliel'ho mai restituito, grazie Shamsi di tutto quello che fai per noi e per la nostra grande amicizia Iniziata un paio di mesi fa Allora, ma cazzo ecco il cappello appunto, abbiamo anticipato quel cappello cringe Allora oggi, dato che siamo a Radio Tomodashi, dato che la radio mi ha sempre affascinato, l'ho sempre seguita, ascoltata eccetera Ho deciso di invitare due speaker radiofonici che sono venuti qua a parlare proprio del mondo radio Quindi la puntata di Radio Tomodashi su la radio, assurdo Presentatevi amici, ciao Vai giallo, giallo No, per cortesia, per rispetto giusto No, per anzianità vai tu Mi è piaciuta, mi è piaciuta, allora, ciao, io sono Gianluca Gazzoli, buonasera, che bello ritrovare Senti che voce che avete, meravigliosa Ma quello già è un mito secondo me da sfatare, non devi per forza avere la voce da radio Allora, affitto un tempo si diceva che ci voleva la voce radiofonica, cioè con, priva di ogni inflessione dialettale, edizione perfetta, invece non è così Allora, io la penso così, nel senso che è un minimo di edizione, bisogna studiarla eccetera, invece anche la questione degli armonici, cioè la quantità di bassi Quindi stiamo già discutendo, cioè abbiamo già idee diverse A me piace, però in realtà io penso di non averli Cioè Gianluca lo senti che comunque ha dei bassi di un certo tipo, io zero Però vi si sente che siete di Milano? Beh, quello sì, quello sì, quello è un grande tema Perché a Milano dicono perché? Perché? Perché Però, guarda, intanto presentati, non ti sei ancora presentata Ah, ciao, sono Melissa Greta, ho iniziato a fare radio per colpa sua È vero anche quello, no, la cosa bella è intanto anche i vari mondi che si contaminano, insomma, che vanno a volte anche al di là della radio Infatti io ti ringrazio poi dell'invito perché insomma noi avevamo già chiacchierato abbondantemente quando sei venuto a trovarmi nel mio podcast Che quello è un altro mondo secondo me a un certo punto da affrontare La voglia, sì perché tanto oggi è puntata radio e podcast Sì, no, beh, sono due cose comunque anche abbastanza diverse Però su quel tema lì in particolare dell'edizione Ah, ok No, dell'edizione, del fatto che uno Tu hai studiato edizione? Assolutamente no, come si può sentire Io in realtà, quando ho iniziato, avevo fatto tra le varie cose anche un programma televisivo Cioè nel momento in cui uno, sai che oggi ti dico, ma come si fa a lavorare in Italia? Ce lo chiedevamo anche dove abbiamo iniziato Ed è uno degli ambienti più chiusi del mondo Perché? Beh, perché sì, perché è un mondo particolarmente chiuso, si fa fatica a entrare Ad avere l'opportunità giusta Io ho frequentato un po' le radio universitarie E quelle sono le nuove palestre Però in realtà ci sono arrivata dopo aver fatto la televisione Ok, quindi c'è una sorta di cast anche lì? Allora, secondo me, poi dipende anche dagli anni Però una volta almeno c'erano le radio locali Dove qualcuno, moltissimi di quelli diciamo più grandi di noi Hanno iniziato con le varie radio locali Alcuni addirittura quelli proprio più grandi Tanto più grandi di noi hanno iniziato con le radio Quelle pirata, quelle private Tutto un mondo particolare Secondo me è molto affascinante Io ad esempio quella è una Non so se è possibile avere nostalgia Di un periodo in cui non sei vissuto Però secondo me quel primo periodo delle radio Parliamo ancora prima probabilmente degli anni 80 Deve essere stato veramente figo Perché stava nascendo tutto A volte qualcuno per anni lo ha paragonato Anche al primo periodo legato al mondo del web Di YouTube in particolare C'era la libertà insomma Che c'era di rispondere dei contenuti Anche un po' l'inconscienza C'era quello C'era insomma la sensazione Totalmente l'inconscienza Perché come dicono molti Se parli adesso con l'Inus Con i più grandi diciamo della radio Ti dicono quando iniziato Non sapevano che ci sarebbe stato Sapevano solo che lo volevano fare Sì non sapevano che poi sarebbe potuto essere un lavoro E soprattutto per tanti Anche durato Che dura ancora tuttora Ed è una cosa che anche sul web All'inizio era un po' così Cioè inizi a aprire un canale YouTube Ma non è che pensi che poi Magari dieci anni dopo Vivi con quella cosa lì Oppure quella cosa lì Ti apre anche degli altri mondi Anche perché poi tu puoi sapere di te Ma non sai come va il mercato Non sai come si evolvono Esatto 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 Quindi è comunque un ambiente Questo per tornare all'inizio Secondo me era molto più libero C'erano molto più tentativi Per i giovani C'era la possibilità di sperimentare di più Secondo me la nostra generazione Almeno per quanto mi riguarda Era veramente nulla Nel senso che mandavo demo Mandava le cose Non ti cagava Non mi ha mai cagato nessuno E quindi ogni occasione era buona E tutto questo per agganciarmi Avevo fatto un programma Per cercare che mi aveva dato Una possibilità che si chiamava RDS Academy Che era la prima edizione Me lo ricordo molto bene E sono molto orgoglioso Perché ti dovevi candidare con un video Siccome io all'epoca Avevo iniziato anche a fare video su YouTube Mi sono candidato con un video Che era piaciuto moltissimo Tant'è che negli anni a seguire L'hanno usato come diciamo Benchmark esempio Per gli altri che si dovevano candidare Ma soprattutto è stata l'esperienza Di entrare poi a contatto davvero con la radio Io lavoravo già in una web radio Almeno era stato un laboratorio Diciamo creativo molto importante E all'interno comunque di questa radio C'era il discorso dell'addizione Perché ad esempio RDS È una radio per cui molti dei Ma che anni erano quelli? Primi 2013 Qui 14 Ah ok 13 o 14 Sì sì era già Era già recente Però insomma Lì ti dicevano che l'addizione era importante E invece secondo me Non è proprio così Proprio perché a volte invece Il successo magari della radio In cui mi trovo adesso Non l'abbiamo detto Tu in che radio sei? Io sono ora a Virgin Radio E io sono a Radio DJ E la forza in questo caso È anche un po' La caratteristica di ognuno di noi Cioè il fatto che uno magari C'ha un accento toscano Un emitello con accento napoletano Sì dipende anche che tipo di programma fai Cioè quanto è caratteristico Quel programma o meno È ovvio che fa personaggio Però non è tutto No no anzi Poi ci sono tanti mondi Di far la raccia Siamo già entrati a cannone Su mille argomenti Ma poi tra l'altro Gianluca è uno che non parla No guarda Però posso dire Posso dire la roba La roba Cioè questa cosa Dobbiamo Perché sono un po' Posso prenderlo Sì certo Certo Cioè vado seduto Perché io sono talmente Sempre carico Talmente senza che Le prime dirette che facevo Stando in piedi Ero ancora più carico Quindi mi devo depotenziare un po' Io mi depotenzio Un po' la clerici Prima mano Vi ricordate la clerici Quando faceva le Le reference di Melissa Attenzione subito così Un po' così Un po' vintage Quando lei faceva Il programma sportivo Perché lei nasce Sì è vero Il programma sportivo Aveva lo sgabello Forse anche la Parietti Tutte belle donne Bellissime donne Ci mancherebbe Però stiamo già andando Un po' off topic Rientrerei Dicendo Non ci puoi lasciare A briglia sciolta Ma in realtà Mi piace molto Questo sporco Mi piace tantissimo Però volevo chiedervi Più che altro Quando vi siete innamorati Della radio Perché voi l'avete sempre fatta Anche se siete partiti Da origini un po' diverse Però vi siete incontrati Avete lavorato insieme Però cos'è che Vi ho detto Cazzo La radio Potrebbe essere il mio lavoro Mi piace perché Perché vi piace la radio Io l'ho sempre ascoltata Perché mi spostavo Con la macchina Io vengo da fuori Milano E per lavorare O per andare all'università Stavo le ore In macchina Tutti i giorni Tre ore Alla fine Complessivamente E quindi la radio Mi faceva compagnia Ed era per me Poi il punto di riferimento Perché poi La radio ti permette Di esprimerti A differenza di altri canali Che sono più veloci La radio Oltre al fatto Che mi metteva a contatto Con la musica Che è sempre stato per me Il punto principale Del mio percorso Mi dava anche la possibilità Secondo me Di esprimermi di più Rispetto ad altri ambienti Ora sei anche a Virgin Quindi la musica Fa parte ormai Del tuo DNA radiofonico Fa parte della scelta Quello sì Ho cambiato Mi raccontavi A cena che ti documenti Anche tantissimo Per essere sempre preparato Sto studiando Come uno studio Matto e disperatissimo Chi era? Leopardi? Ragazzi troppo alto Dalla clerice A Leopardi Una cosa straordinaria E siamo versatili Sì sì Ci sta Però come quello che dice lei È giustissimo Nel senso che poi Della radio ci si innamora Prima da ascoltatori In senso Ed entra nelle tue vite In un modo incredibile Quando si è piccoli Anche nel mio caso È stato Io ricordo addirittura Che a volte Saltavo anche la scuola Per ascoltare alcuni programmi Quando c'è stato il DJ Time Degli anni 2000 Io non ho vissuto Quello degli anni 90 pieno Perché ero piccolo Però quello degli anni 2000 Con Alba Con Albertino DJ Giuseppe Faceva troppo ridere Il pomeriggio Continuava a star male E io pensavo Quanto si divertono Mentre fanno sta roba qua Sai che mi hai fatto venire in mente Che io li ascoltavo a scuola La radio Ma durante le lezioni Mi mettevo le cuffie Non sentivo le lezioni Ma ascoltavo la radio Comunque posso dire È vero che ti sei sgonfiato Sei molto più rilassato E lento Ma te l'ho detto Io quando sto in piedi Cioè io già sono Io sono sempre super carico E quindi se sono in piedi Ma è una cosa che ho imparato Negli ultimi anni Perché così almeno Perché poi la radio La radio non è che la continui a imparare Mentre la fai Cambi tantissimo Cambi un sacco di cose Però appunto Prima si è ascoltatori E poi dopo dici Cacchio che figata Mi piacerebbe un sacco Però come si fa E ci sono in mezzo Mille mille cose Però è Io la radio Credo che sia il mezzo Più sincero Che ci sia in assoluto Nel senso che Arriva quello che sei tu davvero Ci sei tu il microfono Se sei scarso Arriva che sei scarso Se sei forte Arriva che sei forse Se sei simpatico Arriva che sei simpatico Se sei uno stronzo Arriva che sei uno stronzo Io non ho mai sentito uno Che non sembra uno stronzo E poi dare il risultato contrario E da cosa lo capisci? Lo senti Lo senti Cioè la radio ha una roba Di chi ti ascolta Poi ti mette sullo stesso livello Anche lì trovo Delle cose a volte in comune Con alcuni altri linguaggi nuovi Cioè La figata di quando uno Ti ascolta per radio E ti incontra Oh giallo Cioè Sei il suo amico Cioè sei Il suo amico La tv su alcune cose Ti porta sempre su Risulta ancora un po' finta Dici Sì sì Anche per quello ti dico Sincera Perché la tv Ha mille modi Cioè sono i montaggi Tantissime persone Magari non capisci davvero Come vengono Cioè ci sono tanti filtri La radio Non ci sono montaggi Non c'è robe È molto più colloquiale Molto più vicino Al modo che si ha Di parlare tra di noi Invece la televisione Richiede un'altra In un'altra impostazione Comunque come avrete notato Parleremo bene della radio Questa è sicuramente La nostra caratteristica Ma perché Cioè quelli che fanno la radio Ne sono davvero innamorati Forse questo è il primo Vero parallelismo Tra Twitch E la radio Perché Non essendo io In televisione Non vengo visto Come una persona Lontana dal pubblico Non una persona in alto Ma vengo visto Come una persona Terra terra Che streama Dalla sua cameretta Dal suo studiolo Dalla sua camera Dal letto E quindi In un certo senso Loro entrano in camera tua Quindi si sentono a casa Non è neanche il luogo Secondo me Proprio il mezzo Il modo in cui tu parli In quel mezzo Tu adesso sei qua E tra l'altro Non approfitto Per farti pubblicamente Anche i complimenti Per questo posto Perché è davvero 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 bello Gianluca da quando è entrato Agli occhi a cuore Li pare di essere Non gli pare vero Li pare di essere a Disneyland Curio savi Però in giro Poi ero in solo Il buttaculo Sulla Gialluca Guardavi storie Robbe Video mandati Sì però gli dovevo spiegare Cos'erano alcune cose Però Ho riconosciuto Pacman Allora Lui invece si è affissato Con le statuette Di Slandac Ovviamente Allora Quelli devo trovare Il modo di averne Un paio da mettere Nel basement Trovami i tuoi spacciatori Comunque Melissa L'obiettivo è far uscire Lei da questa live Cambiata Cioè proprio La prospettiva Del mondo intero Sei molto streamer Te comunque Io sono streamer Attenzione Allora Il padre dello streaming Mi dice che sono streamer Non sono il padre dello streaming Dai dai Che siamo lì Sì sì Bene Mi ha dato la sua benedizione Vedi che studia Ma non mi confini Allora tu devi sapere Che lei è una secchiona Ti avrà studiato tutto Di te Prima di venire qua Tu non hai idea Mi prendono per il culo Sul lavoro Perché dicono Che sono quella col quaderno Io per ogni cosa Per ogni evento Come Adriotti Con quello stesso quaderno Cioè lui si avvicina A un certo punto Mi dice presidente Presidente A me c'è peccato E sono io che prendo punti Però è vero È vero È vero Comunque quello che dici È verissimo Nel senso che proprio È un mezzo Secondo me Anche io ci trovo Quelli come punti Di connessione Cioè il fatto di avvicinare Di avvicinare molto Rispetto alla tv Che è un altro Che è un altro linguaggio Sicuramente Però è una figata Perché tu entri davvero Nella vita delle persone Ed entri nelle abitudini Come ad esempio Tu con Twitch Fai la live A un certo orario Crea un'affezione Con chi si segue E poi raccontandoti E poi è totalmente Un altro rapporto Rispetto ad altri E poi c'è un altro fattore Ne parlavamo in viaggio Mentre venivamo qua Io già a Lu In radio Spesso e volentieri Possiamo avere Il controllo dei contenuti Quasi sempre Cioè siamo autori Delle nostre trasmissioni Mentre in televisione Non è così scontato Che succeda Sì Spesso e volentieri Abbiamo degli autori Che poi ci portano Davanti alla camera Totalmente Totalmente Infatti sto notando Che la televisione Sta perdendo Un po' terreno Soprattutto Nei più giovani Nessuno la ascolta più La segue più Anzi ci sono dei prodotti Rayplay Magari fighissimi Che però non vengono Minimamente cagati Perché sono lì Nessuno sa che sono lì Quindi Che cosa ci stanno a fare Certo Mentre la radio Mentre la radio Continua in perterrito Ad essere ascoltata Poi adesso Con Il podcast Oppure le puntate Di vari programmi Che vengono recuperati In podcast La gente se l'ascolta Sul treno Il radio Poi con la pandemia Si è abituata A avere sempre La voce A fare compagnia Infatti Twitch è scoppiato La radio pure Il lavoro Il drive time Insomma La radio è difficile La radio poi Nel lockdown Ha avuto un ruolo Incredibile Almeno per quello Che abbiamo fatto Anche noi Cioè eravamo gli unici Che in quel periodo lì Tu potevi sentire E parlavano di altro Cioè in quel periodo Tutto ciò che era live Era un aggiornamento Su quello che stava succedendo Nella pandemia Con notizie brutte Eccetera E ciò che non era live Era roba registrata Già vista 12.000 volte E la radio invece Era quella boccata da aria Quindi in quel periodo È stato davvero Bello anche Nel senso che poi per me Anche quando eravamo Proprio chiusi in casa Era l'unico momento Della giornata In cui potevo A me mi ha salvato la vita Noi non andavamo In studio Penso anche a te Già Io ho fatto Avevo il permesso Una volta a settimana Due volte a settimana Io ero a Radio 2 Ai tempi E invece ci davano La macchinetta La chiamiamo noi Il codec Per Che è un mini studiolo Da collegare a casa È un mezzo Incredibile Però per me Mi ha salvato la vita Che ti chiedi quasi Perché non lavori sempre così Ma infatti devo dire Che quello ha un po' cambiato Anche nel senso che Allora la radio Secondo me è bella Andarci fisicamente Andarci in studio Cambia proprio la performance Sì per me sì Va da persona a persona Io ho scelto anche Di lavorare in una radio Nella mia città Proprio per questo Perché mi piace Lavorare in squadra Mi piace essere a contatto Con le persone Però ci sono state Anche persone Che invece Hanno approfittato Tra virgolette Di questa cosa Per potersi Del cazzeggiare No no Del potersela Del poter magari Magari chi aveva Degli orari Un po' più difficoltosi Eccetera Così Se l'è un po' più Un po' più goduta In realtà È una delle cose Una delle poche cose Buone che ha Che ha lasciato Tra virgolette Tutto quel periodo È proprio questo mezzo Qui che ti permette Di andare ovunque Perché anche se vai Degli spostamenti Ad esempio Sono stato a Los Angeles La prossima settimana Trasmetto da New York Portandomi questa roba qui Quindi mi basta avere Cioè è un bussolotto No no Immaginati come questo Immaginati questo mixer Un pochino Leggermente più piccolo Ma più pesante Con un microfono E una potenza tale Per cui anche se sei In questa stanza Hai una Anzi Questo è anche uno studio Ma ora se sei in una stanza Anche di un albergo Con un minimo di accortezza La gente non si accorge Che tu non sei in radio È una madonna No no È incredibile È davvero incredibile Io ero a Los Angeles Con tanto di fuso orario Possibili ritardi eccetera Non c'aveva neanche Mezzo secondo di ritardo Poi io ai tempi Andavo in onda Con un altro conduttore E per essere Diciamo In sinco Per comunicare Avevamo anche Skype Sì sì esatto Perché aiuta Nei fuori onda No Quello è fondamentale Sì sì E quel mezzo Dell'ottocento Sì sì Skype Io avevo il telefono Di Skype Non esisteva Non funziona più Davvero Ma davvero Giuro Era una collaborazione Cos'è il telefono Com'era fatto Era piccolino Era un operatore Vabbè che adesso Non sto a citare E Vabbè non ci sono Non c'è problemi Vabbè Questo è un retaggio Questo è il retaggio Radiofonico E televisivo Il non poter dire Il non poter citare Si può dire tutto Comunque era fatto Per fare le videochiamate Ok Quindi era Era tre Sì esatto Le prime videochiamate Le prime videochiamate Se provi a accenderlo Non funziona adesso L'hanno proprio L'hanno distrutto Improvvisamente Però rispondendo All'altra domanda Che dici Cacchio In questo periodo Comunque è un mezzo Che ancora È ancora vivo Secondo me vive bene Per quel motivo lì Mi ricordo Secondo qualche studio È anche il mezzo Ad oggi Subito dopo il telegiornale Uno dei più credibili Cioè per la gente Cioè se una cosa Viene detta Al telegiornale O in radio Ha più credibilità Rispetto Se viene letta Su internet A livello di percepito Di credibilità Del mezzo Non vai su twitter A leggere Ascolti la radio Perché di solito Sai quando succedono le cose La prima cosa Che vai a controllare Su twitter Se c'è stato Whatsapp down Quello è vero Quello è vero No però È nel senso Se io sento una cosa Mentre sto ascoltando La radio Tendenzialmente Mi fido Rispetto magari A una cosa Che vedo su internet Allora vado Non fatelo Perché ogni tanto Diciamo delle cazzate No scherzo Però ci sono anche Delle redazioni giornalistiche Dietro i programmi E dietro delle reti Quindi quello c'è E poi c'è il fatto Dell'essere live Che secondo me È una roba Molto bella Ecco a proposito Che qui c'è un altro Parallismo ovviamente Perché io tutti i giorni Devo essere in live No? Che tu abbia avuto Una giornata di merda O una giornata fantastica Te devi essere sempre qua Pronto Voi come affrontate Questa cosa? Cioè quando entrate In live Vi dimenticate di tutto? Oppure comunque Un po' È rimasuglio? Cioè quindi Sentite che non performate Come nelle giornate Quando magari Avete avuto una buona giornata Vai rispondi prima tu Siamo umani Quindi è ovvio Che è un minimo Però cerchi Il più possibile Almeno io faccio così Di essere professionale E lasciare al di fuori Quello che succede Nella mia vita privata Però al 100% Io non credo Di essere mai riuscita A farlo Perché sono molto emotiva E quindi E mi piace rimanere così Non voglio diventare un robot No è giusto Io ho avuto Una grande scuola Che è stata quella Di quando facevo L'animatore nei villaggi Che lì tu Puoi avere Qualsiasi cazzo Per la testa Devi dimensare Problemi Devi dimenticarlo Perché la gente lì In vacanza Non gliene frega Un cazzo Che la fidanzata T'ha tradito C'hai altre cose Quindi tu Anzi approfittane Per se io sono sempre Abbastanza Ma lì poi potremmo Fare un'altra puntata Su questo tema Una bella puntata Che poi dasci Sugli animatori Turesti Ci sono una figata Eh pensaci Se vuoi ritorno È chiaramente interessante Però È proprio una roba Alla quale un po' Mi sono addestrato A parte che di per sé Sono sempre Molto positivo Ed entusiasta La radio Poi comunque È quella cosa Che quando la accendo E so che sono al microfono Sono proprio Poi c'è una volta Che magari sei più carico O meno carico Però proprio Mi si accende Cioè la diretta E ti succederà Magari anche con la live Eccetera La senti comunque Che è la differenza E secondo me Quella è poi La figata E la differenza Anche con tutte le altre cose Che poi ci sono Anche voi E serve anche a te Cioè se è un momento no Serve anche a te Per staccare Non pensarci Sono d'accordo Anche per me è così Quindi voi potreste vive Senza radio Cioè facendo altro Come economicamente No 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 Intendo proprio Senza quella droga Della radio Io in questo momento Non riesco a immaginarlo Sinceramente E hai detto bene Una droga Io pur facendo tante cose Quella è per me Sempre stato il punto fisso Cioè io mi sono sempre detto Devo Cioè Voglio fare tante cose Ce ne sono ancora tante altre Che voglio fare Però la radio Deve essere la mia La mia costante Tutto il resto È Tutto il resto Sarà Sempre più figo Spero Però quella roba Lì deve essere Perché è un po' Come tornare Alla sera Dagli amici al bar A raccontargli A volte com'è andata A volte invece parlare Di altre cose È una cosa molto bella Devo dire Poi insomma Poi ci sono tanti modi Anche di far la radio Tante radio diverse Tanti modi di interpretarla Perché poi uno dice Ascolto la radio Però sono tutte diverse Sono tutti in mondo diversi Anzi sarei curioso Da chi ci segue adesso In live Anche Che cosa ne pensa Perché poi a volte Sono Una cosa che mi sono accorto Nell'ultimo periodo Almeno nel mio caso Mi fa molto piacere Perché ci ho messo anni Ma i vasi Iniziano ad essere comunicanti Cioè Tanta gente Che mi segue online E anche tanta gente Che mi ascolta A volte chi mi ascolta Cioè se io riesco A incuriosire Uno che mi sta ascoltando Solo perché gli sto parlando O perché ho detto una cosa O perché Boh In qualche motivo A cercarmi online E a seguirmi Dici Cazzo L'hai fatto solo con la voce Solo con la radio Che figata Quindi per me Quella è la cosa Che vale di più in assoluto Ma viceversa Anche se qualcuno Mi segue online E poi inizia a ascoltarmi in radio Poi ci sono tempi diversi Per ogni cosa Quindi voi avete una sorta di Ormai stabilità Tra voi e il medium In cui lavorate Però penso Abbiate avuto Delle esperienze anche brutte Prima di arrivare a questa stabilità Beh io ho avuto Un sacco di insicurezza Per anni Perché comunque Ho lavorato Ho lavorato sempre con altre persone Che erano molto più brave di me E quindi pensavo di non essere all'altezza Non riuscivo ad avere dimestichezza Poi a un certo punto Ho fatto un anno da sola E questo mi ha fatto capire un po' di cose Mi ha fatto capire soprattutto Che cosa volevo E la consapevolezza Mi ha portato più sicurezza Tra l'altro Scusa se ti interrompo Ma un anno da sola Che cosa vuol dire? Programma da sola Senza co-conduttore Ah ok Tra l'altro se non ricordo male Uno dei primi periodi Quando eravamo a Radio 2 Noi ecco Perché poi lei prima L'ha buttata lì Però è carina questa cosa Effettivamente Tu hai iniziato Abbiamo iniziato più o meno insieme Diciamo Io ho iniziato Che tu eri già lì A Radio 2 A Radio 2 Da un po' E sono subentrata io Era tipo aprile del 2017 Se non sbaglio Che io ero partito Per seguire il Giro d'Italia Esatto È vero Che memoria Che avete Io mi ricordo solo questo Io non mi ricordo una sega Beh ragazzi Ho fatto 100 giorni in giro Cioè è stata una roba Incredibile La roba del Giro d'Italia Perché poi lo seguivo Con la radio Facevo la diretta In giro E poi Insomma è stata Un'esperienza Molto molto bella Per l'anno del centenario E lei appunto Era arrivato in quel periodo Però ricordo che poco dopo Era successo qualcosa Qualcuno non era stato bene E tu eri finito E eri finito Tu eri Tu avevi preso il mio posto Mentre io a fare il Giro Ero a fare il Giro d'Italia Io sempre sulla pelle degli altri Ed eri con Cata E poi c'è stato un momento Qualche settimana dopo Cata Masci Cata Masci A cui vogliamo tanto bene E tu Sei finito da sola un giorno Non hai fatto una diretta Tipo da sola L'avventura Ma quello è stato un incidente Di percorso Beh però cazzo non è facile No quello è stato un trauma Una roba che voglio dimenticare Però ce l'abbiamo tutti Ce l'ho anch'io quel trauma Anni di analisi Per quel pomeriggio lì Che è veramente da dimenticare Perché cos'è successo? Perché non ero all'altezza Di tenere tre ore di diretta Avevo iniziato tipo il giorno prima E non ero assolutamente in grado Scuso tre ore di bomba Non era da fare Quella roba è stato un errore Infatti E vabbè pazienza Io non lo sapevo Non sapevo che cosa andavo incontro Però cazzo che esperienza Ti ha fatto quella roba lì Cioè a volte essere buttato Sei cosa mi ha fatto Un sacco di anni di analisi A me è successa una cosa del genere Per mia volontà Nel senso che lì ero stato Io dico sempre sì alle cose Poi capisco dopo Come risolverla Però quando ero ancora prima A Radio Number One Che invece era una radio locale Dove poi ero riuscito ad arrivare Facendo un programma La mattina presto Ho fatto degli anni Anche abbastanza complicati Poco dopo tempo Dopo poco tempo che ero lì Mi chiesero Se guarda c'è il conduttore Che è Michi Michi Buselli E qui Adesso poi voglio Voglio tanto bene Che in quel momento Noi salutiamo tutti Ciao Michi Grazie È molto radiofonica questa cosa Posso salutare la mamma Un aiutino Vuoi sapere come riconosco Chi mi segue su Instagram Ed è una persona Che mi ascolta in radio Vai Che sui DM di Instagram Mi dice Giallo sei un grande Ciao Francesca da Pisa Ah si firmano Quando ti firmi Sui DM di Instagram Sparo a caso Così Allora ho capito Tu sei un ascoltatore Perché in radio Si dice sempre la provenienza Sì ciao Sono Giorgio Da Roma Non l'ho mai capita Donato da Paris Mauro da Manzo Perché dal contesto Però Udo che lo fa Nei DM di Instagram Dici Cazzo Sta roba è incredibile Comunque tutto questo Per dire Che dico Sì va bene Ci sono Lo sostituisco Che non era stato bene In uno dei programmi Di Punta Lì In quel caso Adesso è tutto figo Perché magari abbiamo qualcuno Che ci fa regia Eccetera Però all'inizio Io mi ero imparato A fare autoregia Che è una cosa Molto complicata È una casa molto grande E che mi è venuto in mente Il camice Adesso arriviamo anche a quello Quindi Che però è come andare in macchina C'è che quando inizi a fare Scuola guida Dici come cazzo è possibile Cioè l'acceleratore Il freno Poi devo usare questo Mi incarterò sicuramente Mi incarterò Poi pian piano diventa Una roba automatica Stessa cosa È un po' Utilizzare il fade Poi tu hai tutti Cioè la difficoltà È che a differenza Della live Che meno male È un Flusso continuo Tu devi Hai un clock Da rispettare Quando sei in radio Clock È un clock È un clock Da rispettare Un timing Sì Che è scandito Dalle pubblicità Anche orario Secondo me Sì sì Gli spot Gli spot pubblicitari Non li puoi Come dire Saltare O bucare O far arrivare in ritardo Tu devi totalmente Rispettare i tempi Di tutto quanto Tra le canzoni In mezzo eccetera In modo che tutto questo clock Segua un giro E ci stia tutto bene Dentro Non è soltanto La pubblicità Poi dipende In che radio sei Però nella radio Dove lavoro io Mi piace molto Perché è Prontata principalmente Sulla musica E non si possono Saltare i brani Non si può neanche Tagliare una solo Che ne so Dei Pink Floyd Perché giustamente È fondamentale Quindi devi stare Ancora Più attento Al timing No ma poi Molti non lo sanno Ma ogni canzone È lì per un motivo Cioè All'interno Se tu ti ascolti Un'ora Magari qualcuno Attento l'ascolta Però C'è uno schema Cioè All'inizio dell'ora C'è una canzone nuova Poi il secondo pezzo È una canzone Un old Una canzone Vecchia Poi c'è il disco Rotazione Quindi c'è uno schema In tutto Che va Che va più o meno Sempre rispettato E ha un senso Ed è il motivo Per cui Quando ci dicono Mi metti questa canzone Non si può Non può A parte che Chi va in onda Davanti al microfono Solitamente Non sceglie mai La musica La scaletta musicale Viene scelta Dall'ufficio musica Altra differenza Da quegli anni L'ufficio musica Questa però Un'altra differenza Da quegli anni Invece di cui parlavamo Prima Dove Chi era in onda Sceglieva anche la musica Quindi era un DJ A tutti gli effetti Nel senso che metteva anche Dei Però a Radio 2 Ho avuto anche C'era questa possibilità Sì Questo onore Devo dirvi La verità Era una cosa Che mi piaceva tantissimo Cioè sceglievi la musica? Potevo scegliere un pezzo Che per me era già tantissimo Perché solitamente Non succede E hai la possibilità Di scegliere una roba E parlare di quell'artista Che magari Non passa a nessuno Comunque Non è perché Sono cattivi Ma perché c'è un senso Perché se io metto La mia canzone Che piace a me Lei mette la sua Ma in onda Dopo di me C'è un motivo Per cui poi accade Anche questa cosa E un altro motivo E anche l'identità Poi della radio Ad esempio nel suo caso Una radio molto musicale Molto sul rock Quindi se a lei Le piacesse una canzone Che non è rock Beh cavolo Bisogna vedere Se ci sta bene o no Anche la mia Ha un'identità musicale Ben precisa Tant'è che Non tutte le canzze Ecco Questi sono due Dei pochi casi Diciamo per cui Le radio hanno Un'identità musicale Ben precisa Cioè non Io dico sempre Cioè da noi C'è tipo Un buttafuori All'ingresso Escono le canzoni E tu sì Tu no Tu sì Tu no Ma Per un Cioè c'è un senso Editoriale Non so come Cioè c'è la stessa cosa Mi viene in mente Anche Radio Monte Carlo Ha un'identità molto forte Anche 105 Quindi sì È vero C'è tutto C'è un perché Dietro alle scelte musicali Che non appartiene a noi Assolutamente Assolutamente sì Quindi insomma Per chiudere Il discorso che dicevo prima Semplicemente anch'io Mi sono buttato All'avventura Su questa roba qua Io facendo mia autoregia Mi stavo facendo la classifica Che era una cosa Un po' complicata Ero convinto Di star mandando Un pezzo di Vasco Rossi Schiaccio il tasto Che l'avrebbe lanciata Non ti l'ho mai raccontata Questa cosa? No Non lo sapevo Ero convinto Ero convinto di averlo schiacciato Invece l'ho rischiacciato Un'altra volta Quindi la canzone È partita è partita È partita una canzone Diversa da quella che io avevo annunciato Mi prendo malissimo Certo perché è ovvio Quando può passare in quel momento Il mega direttore galattico Luca Viscardi Che saluto Saluto Ciao Luca Grazie di tutto Grazie di tutto Perché è stato poi Colui che mi ha messo Davanti al microfono In una radio vera Per la prima volta Che però in quel caso Mi entra e mi fa Occhio però Il microfono Chiudilo Mi accorgo Che tutto questo momento Svasato Io volevo lasciare il microfono Mi giro sui messaggi Boh Perché ricordati sempre Che in radio Se dici una cosa giusta Bella Brava Magari qualcuno te lo scrive Ma se dici una cazzata Boh Arrivano tutti quelli Che tu dici Ma dove cazzo eravate prima Perché quando tu dici A tutti devono farti Ma succede così anche sull'web Non è una novità La voglia Quindi lì mi impanico Tremendamente Poi in un modo Nell'altro La porto a casa Riaggiusto anche i tempi Eccetera eccetera Però anche quella esperienza lì È valsa poi altri È valsa un anno intero Guarda adesso mi sento meglio Quella giorno In cui sono rimasta da sola A fare la diretta Che non sapevo neanche Da che parte girarmi Ci siamo rimasti tre ore fa Esatto No perché mi fa sentir meglio Questa cosa qua Cioè mi metto un po' in pace Non è che può andare Non è nel senso Ho fatto una figura di merda Ma di quelle proprio Che non mi dimenticherò mai Nella vita Ero super impanicata E continuavo a dire Durante la trasmissione Che era domenica E che alla sera Ci sarebbe stata Alla finale Del campionato Di serie A Che invece si stava giocando In quel momento E io Hai toccato un argomento Leggero Ma poi io In quel periodo Stavo facendo quelli Che il calcio Quindi c'è una super cazzola Un merdone Veramente È vero È vero Però è stato catartico Questo racconto di Gazzoli Grazie Gianluca Ma no Perché Cioè queste cose Poi servono In qualche modo Può capitare Diciamo Ad essere cacciati No Poi la devi portare a casa E insomma Ed eccoci qui Voglio dire Tutto serve Tutto accade Infatti non ho mai più Lasciato E fu così che domani In diretta Lascio il microfono aperto Però lì hai subito Un impatto Con Cioè Con milioni di persone Quella è l'altra Grande differenza No Oggi Quando tu parli In live su Twitch O in un podcast Eccetera Hai idea Delle persone a cui stai parlando Hai dei tempi Per cui ti moderare Infatti Il tono of voice Chiamiamolo così No Il tono of voice Mio è sempre lo stesso Però I temi Gli argomenti Che tratto in un podcast O che tratto Invece quando sono in radio Sono completamente diversi Perché quando parli in radio In quel momento Tu stai parlando A milioni di persone Centinaia di migliaia di persone Generalista Cioè nel senso Non potrei mai parlare Per dieci minuti Di NBA Che mi piace O per dieci minuti Di un certo tipo di musica Eccetera Perché lì stai parlando A tantissima altra Oppure tante colze Ti devi ricordare Che questa cosa Me l'avevi detta Quando avevamo fatto La chiacchierata a noi Che io ogni tanto Spiegavo qualcosa Che tu stavi dando Per scontato Perché è un po' Un retaggio Però a volte serve Nel senso che Mai dare per scontato Che l'altra persona Però molti Ha anche senso nel tuo caso Perché le persone Che ti seguono Sanno quasi tutto Ti racconto questo aneddoto Che mi è successo Proprio di recente Io Proprio per evitare Questa cosa Io ho iniziato A spiegare Molto bene Sempre la stessa cosa Cioè se mi ritrovavo Davanti a un argomento Che avevo già trattato Io lo ritrattavo Esattamente Nella stessa maniera Perché spesso Ho delle botte Di pubblico in più Ah certo Che non mi aspettavo Di avere Quindi Devi introdurle Mi sono abituato Ho visto che su YouTube Quando fributano i momenti In live E lo caricano su YouTube La gente mi scipia Per il culo Per questo E riprende tutte le frasi Che io ripeto A me ne dite Però è una questione Di inclusività Nel senso che Se uno è nuovo E si sente escluso Dal discorso È una delle cose più brutte Che possa succedere Lo so Però Io mi sono abituato A fare questa cosa Però non so È un vantaggio Fa ride La cosa che ti Prendono proprio le frasi E cazzo Minchia La riprendono La andrò a vedere subito Appena finiamo Vado a vederla Poi ti faccio Dei commenti Veramente interessanti Però Ho detto Cazzo Questo gli va spiegato E se c'è uno Che non mi segue C'è uno non abbonato Si vuole abbonare E quindi Mi capita spesso Di ripetere Sempre le stesse cose Lo so È un déjà vu Continuo Però A volte serve Perché arriva Come dici tu Arriva un botto di gente Insieme E se poi non capisce Se ne va Gliela devi spiegare La radio poi è un attimo Che cambi stazione Esatto Comunque sono successe Anche delle cose belle Perché per esempio Io e Gianlu Siamo andati insieme A fare una diretta Per Sanremo Quella è stata La prima vera cosa Che abbiamo fatto Insieme a Radio 2 In gita Il festival di Sanremo Ragazzi Il festival di Sanremo Sanremo giovani Però era quello Sanremo giovani Io tuttora Ad oggi Dopo una serie di esperienze Che ho fatto Posso dire È una delle cose Che ricordo Con più piacere È stato molto bello Uno perché È stato un esperimento Diciamo anche in quel caso Cross mediale Se vogliamo vederla così Perché noi andavamo a fare La diretta Con Radio 2 Questa cosa la facevamo spesso La diretta radiofonica Di un programma televisivo Quindi c'è un programma Basato su delle canzoni Noi lo presentiamo in radio Parliamo E quando la canzone È in onda La canzone lasciamo andare Facciamo la canzone Però dobbiamo spiegare Che cosa va in onda In tv In quel momento Oppure passano i personaggi Un commento Al volo e facciamo Ti ricordi Salvatore Sì L'avevamo fatto con lui Che è una cosa che succede Per i grandi eventi Quindi succede per i festivali Sanremo Sanremo giovani Davide Donatello Anche è stato bellissimo Davide Donatello Anche il primo maggio Hai fatto Allora io non riuscirei mai a gestire Io sentendovi solo parlare Di questi eventi Mi viene l'ansia Ve l'ho detto anche a cena Come cazzo fate a gestire Come Sanremo Enorme Un sacco di responsabilità A me è gas Io poi l'anno prima L'anno prima di fare questa cosa Avevo fatto proprio la diretta Del festival Dall'Ariston Ed era stata una cosa Un'emozione Perché comunque Sanremo Il palco Il festival Poi lei c'è pure salita A cantare Sul palco Dell'Ariston Ho presentato E poi è capitato Di cantare Perché lei è cantante In realtà è cantante No vabbè Ma perché cantavamo tutti Vabbè Vabbè è stato un momento Molto bello In Italia cantano tutti Vabbè Sinceri Cioè parlate come mangiate Parla come mangi Oppure siete più Ehi ciao ragazzi Allora come state Come affrontate Perché io quelli lì Spaccherei di botte Ma io credo che non funzioni più Ciao Vito Dato mi chiami Sei un grande Ma te sei un numero uno Grande Come l'undini con i down Veramente No è vero È vero È vero È insopposciabile Questa cosa Allora intanto Non voglio essere menata da te Quindi comunque Non voglio essere spontanea Hai ragione Io sono un grande Io sono un grande No io non ce la farei mai A fingere Cioè proprio Non riesco manco nella vita Sei bella spontanea Non ce la faccio Mi sento male Non sono capace Sono una cagna maledetta A recitare È vero Citazione 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 Infatti era partita così E ho detto Calmati un attimo E comunque Comunque sì Ti ho detto che domani Apre il canale Twitch Preparate gli abbonamenti Borda vai Preparate gli abbonamenti Se ne vanno E che dopo Ragazzi ma Poi che indore Sventò Ma quando mi ricapita Ma che bomba Cioè Gazzoli moccia Ma poi ma già Usciamo di qua Su Instagram Sì sì Abbiamo già E via E via andare E si va a casa Velli freni Comunque secondo me Parla come mangi Ride di tutto È veramente il pubblico Più fascia del mondo Ride per qualsiasi stronzata È bellissimo No vabbè C'è un entusiasmo continuo No ma giusto È bello È bello Comunque parla come mangi Secondo me è la soluzione Anche perché se no non funziona Torniamo al discorso Dell'autenticità eccetera Ci sono quelle Quel tipo di Di conduzione che dici tu C'è stata tanti tanti anni fa Adesso non ha veramente più senso Per quello ti dico Che l'addizione Sì ci sta Se è troppo marcata Che non è più italiano Anche a quel punto Ed è un altro discorso Però Non devi Cioè la cosa più bella È quando ti dicono Le persone che ti conoscono Soprattutto magari I primi periodi Ti sentono in radio E fa effetto no Però dicono Cazzo ma eri tu Cioè sei tu Sei tu Cioè se io esco E smetto di parlare Ti parlo E parlo uguale E quello deve essere Però non è Come dire Non è facile Non è immediato Cioè la cosa più difficile È fare parla come mangi Perché tutti coloro Che si mettono davanti a un microfono Per la prima volta O sono timidi O sono impostati È una forma di timidezza Anche quella Non essere impostato È il lavoro più grande Che fai su te stesso Quando inizi a fare questo lavoro E quando ti accordi Di riuscire a farlo spontaneamente È un tanta roba E come vi comportate invece Rispetto ai tempi morti Perché è una cosa Che per esempio A me terrorizza tantissimo L'horror vacui Esatto Cioè sentire i silenzi Che non ci sono Perché vedo che Non ne avete praticamente Se c'è un segreto C'è un segreto Se c'è un silenzio In radio Almeno da noi Ma credo in tutte le radio C'è un sistema d'allarme Cioè se c'è un buco Di un tot di secondi No Da noi no Se c'è un buco Di tot di secondi Viene rilevato Come se la radio Avesse un problema Come se Ma che ansia Adesso non vorrei dire Una cazzata Ma che ansia E beh perché la radio Non può avere buchi Non può avere Questa radio si autodistruggerà Se tu stai zitto E se è silenzio E questo sistema Non rileva Un rumore Una voce Una roba Succede un casino Una roba satellitare Vorrei dire una cazzata Invece Blur Per tenere Per togliere tutti Lei ha detto Blur Blur Dimmi Non i Blur 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 È uno streamer È il re addirittura Sì sì Poi me lo suco Quando voglio Però insomma Diciamo le cose come stanno Giusto Io sono il re oscuro Comunque Lui invece Tiene gli alert Incessanti Perché si abbonano Un sacco di persone Su canale E quindi c'è sempre Questo suono Che lui non vuole togliere Perché se manca lui A parlare Copre Copre capito No io fortunatamente Non ho mai Ovviamente non li devi fare Magari ci sono a volte Delle chiadele Tipo A me piace un sacco Una cosa che proprio Mi fa godere della radio È beccare l'intro Della canzone Cioè quella è proprio La cosa Sì È un feticismo Questo è un feticismo Ma proprio una roba Che quando lo becchi Giusto Ci scherzi anche Poi parte la canzone E dici Sai dove Ho trovato il fascino In questa cosa Quando ho giocato A GTA Vice City E c'erano tutte le radio Preimpostate Che avevano costruite Minuziosamente E c'erano tutti i DJ Di ogni radio diversa C'erano un botto Che introducevano la canzone E lo facevano sempre In maniera molto suadente Poi era musica C'è uno Non mi ricordo il nome Sessuale Allora c'era una voce Un po' più suadente Sì 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 è vero Abbiamo fatto il lavoro Di Radio Sperante C'era invece È verissimo Grande Mamma mia Che è spantoso Che reference Bellissimo Però sì Io so proprio Sai le balle di Fien No no Ogni tanto si spende Io non andavo a scuola Per giocare a Vice City Stavo a casa Pensando a Andrea Se vai a City Comunque L'intro Secondo me Sono delle cose più belle I tempi morti Non ci possono essere Non ci devono essere Però ti puoi aggrappare A delle cose Se proprio Io non so che cosa dire Le porte d'emergenza A parte aggrapparsi A sto gran C'è l'ora C'è Il tempo C'è il nome della radio Ci sono delle formuline Ci sono delle cose istituzionali Che comunque ti vengono Sempre incontro Cioè Delle coordinate Tipo il numero di telefono Tipo il sito della radio Tipo appuntamenti Durante la settimana Appuntamenti speciali Da ricordare Quelle sono cose Che se non stai Se ti mancano dei contenuti Lì per lì O non funziona qualcosa Puoi sempre inserire Tranquillamente Puoi fare anche Anche gli scherzi Mi ricordo Uno delle prime volte Vabbè In radio A DJ in particolare Insomma Ci sono delle leggende Incredibili Su scherzi Su cose che facevano Anche durante il DJ time Molto spesso Venivano degli ospiti Eccetera E Albertino Fargetta Facevano finta di litigare Cioè è come se Io e te ci mettiamo d'accordo Lei è qua Io e te a un certo punto Ma poi ci meniamo Io vi lascio fare Sì però invece Tu immagini un artista Una roba E cazzo Vedivi Vedivi Che cosa succede Oppure mi ricordo Una volta Primo giorno Che arrivo in radio A Number One In questo caso Quindi già tutto Molto affascinato Era Mancato da poco Adesso un artista Ipotizziamo Lucio Dalla Non era Lucio Dalla Però tipo Disannuncio di canzoni Di Lucio Dalla Io sono lì che ascolto Tutti E il conduttore in onda Dice E questa è la canzone Di Lucio Dalla Che è morto Finalmente Quei bastardo E mo Mi caglio così E poi fa No stavo scherzando Era spento Mi dice Io no Bellissimo Bellissimo Cose che puoi fare Off Off Totalmente off Perché poi c'è tutto il mondo Dell'off air Cioè di quando Dei fuori onda Tu fuori onda cosa fai? No io chiacchio Tu canti? No zero No io canto Perché canto male Io parlo Io parlo continuamente Penso di essere veramente L'ossessione Dei miei compagni Del regista Non ne possono più Veramente Vabbè ma il tuo lavoro Parla Scusa che male c'è Anzi Quello è bello Eh però Non air Non offer Capito Uno si rilassa Anche invece io non mi rilasso mai Bella Sempre al top Su due ore Non stacco mai E invece Siete anche degli ascoltatori Cioè voi ascoltate Non dico la concorrenza Però avete dei programmi simbolo Che vi piace ascoltare tutti i giorni Te sei già dove vuoi arrivare Vero Sì vabbè ma chi se ne frega Cioè Ma infatti ma Che pena c'è Allora Guardi Che dici No Si sta creando troppa aspettativa No Ce lo so Avete dei programmi Partiamo Allora io Il sogno della mia vita Da quando sono piccolo Era fare radio DJ Nel senso che per me Non era proprio Non era neanche fare la radio Era fare radio DJ Perché era tutto un mondo Tutta una serie di cose Eccetera eccetera E quindi i miei programmi simbolo Arrivano da lì Io ho passato anni a seguire Vedere DJ Gham Italia Per me è un po' la bibbia Dal punto di vista della radio Perché è quel programma Che ti tiene compagnia Che ti tiene aggiornato Sulle cose che succedono È quella chiacchierata tra amici In cui tu ti senti anche tu Tra quegli amici E in più è quello stesso programma Che allo stesso tempo Ha la credibilità Per poter avere un ospite Molto alto Nel dia degli spazi Dello studio Però Un ospite diciamo Di un certo livello Un ospite più simpatico E ha anche Insomma Una sua credibilità E ha creato Un gruppo di ascoltatori Quindi per me Quello è sempre stato Un po' il simbolo Il DJ Time Come ho citato prima Per quanto riguarda Anche l'ironia Ciao Belli L'umorismo di Ciao Belli Io sono cresciuto Con l'umorismo di Ciao Belli Quindi le mie reference Arrivano proprio da lì E per me è un onore Perché il DJ Angelo È un maestro È un vero maestro Io da quando sono DJ Ho scoperto Che scrive tutto lui Quelle cose lì Ovviamente c'è un team Incredibile Di super persone Di super professionisti Però molti La maggior parte Gli sketch Li scrive proprio lui Ed è un genio totale E quindi Il fatto di far parte Di essere E di essere in quella radio Per me poi è stato Proprio il raggiungimento Del sogno Io sono d'accordissimo Con te E penso che Linus e Albertino Siano delle persone Eccezionali A parte che Insomma i loro programmi Hanno sempre funzionato E poi mi sono recuperato La storia di Linus Di come è cresciuto Di come ha rifatto Completamente una radio Che prima Perteneva a Cecchetto Chiaro Che è anche difficile Nel senso che Chiaramente Cecchetto Ha innovato Certo Poi ha fatto il suo tempo Però a un certo punto Comunque è difficile In tutti questi anni Mantenere Un brand A un livello Così alto Sia di ascoltatori Ma soprattutto Di impatto Sulla gente Cioè il fatto che Insomma quello che tu dici Al microfono Poi noi appunto Come ti dicevo prima Le radio Ci sono due grandi mondi Che sono le radio di flusso E le radio Le personality radio Quelle di flusso Hanno un sistema Molto incentrato Sulla musica Dove magari hai Un po' di tempo in meno Per parlare Ma c'è un'identità musicale Molto forte Eccetera eccetera Quelle di personalità Hai invece degli interventi Molto lunghi Quindi Hai un po' più di Di modo di parlare Di dire delle cose Di raccontarti Però insomma Devi avere qualcosa da dire In quel tempo No a me piace quello Cioè il fatto che Linus E poi tutto il suo team Di conseguenza Sappia sempre cosa dire Ogni mattina E oltre questo Fa anche l'art director Di tutto È veramente difficile Poi Albertino Per quello che ha fatto Per la musica italiana Per i pezzi che ha lanciato Poi è stato uno dei primi A capire il rap E a organizzare eventi Guarda Era il periodo E questa cosa Secondo me succede ancora In cui proprio Le vite degli artisti Venivano decisi dalle radio Nel senso Se una certa radio Passava Nel caso di Albertino Che tra l'altro Insomma Axe è stato recentemente Hospital Basement Con gli articoli 31 E ha detto proprio Se non fosse stato Per Albertino Non esisteremmo Cioè c'era un momento Negli anni 90 In cui il disco Che veniva passato Da Albertino Poi veniva decretato Automaticamente Un successo La dance Anni 90 La dance Tante altre cose Però perché tu Arrivavi a fidarti Di quella Di quella persona Che metteva quel disco Eccetera Ma ragazzi Non so voi Ma io registravo Dalla radio Perché era quella Per me La fonte E quindi Anche tutta la credibilità Era importante Io registravo Anche cordialmente No cordialmente Ecco scusami Mi sono dimenticato Cordialmente È il miglior programma Radiofonico Di sempre Non sono d'accordo Beh lo so che adesso Voi arrivate a parlare Di un'altra cosa Ma non è quello Che pensi tu Per me è un altro Dimmi un po' Per me il programma Che adesso non c'è più Ma era un programma Di Nino Frassica Che si chiamava Programmone Programmone Su radio Però ne ho anche altri Però apriamo una parentesi Che poi chiudiamo Però Tu hai citato il programmone Comunque hai citato Frassica Hai citato dei miti E c'è da dire Comunque abbiamo lavorato Entrambi a Radio 2 Che è una radio Se vi capiterà mai Di andare Non so se qualcuno Che ci segue Ci capiterà Magari a te capiterà Per qualche momento Tutti ci è capitato Gli studi di Roma Tu entri Nella storia della radio Via Asiago Via Asiago Tu entri lì E vedi le foto Di Renzo Arbore Che andava in diretto Da lì Con Costanzo Senza Baffi C'è una foto Subito all'ingresso Di Costanzo Senza Baffi Che io ho detto Ma è veramente Quindi il fatto di aver lavorato a Radio 2 Ci ha permesso Credo ovviamente anche a te Di lavorare Di avere a che fare O anche di ammirare Alcuni professionisti Incredibili Della radio E della tv Ho presentato una serata Con Arbore una volta E sono rimasto Stoccato Poi non perde mica Anche Frassica Ancora pieno Di verbe Secondo me Adesso è al top Ma poi è lui Che ha scoperto l'Undini Cercandolo in giro Praticamente No in realtà È stato Credo Giovanni Benincasa Che salutiamo Giovanni Benincasa Che è veramente Un autore Televisivo Storico Appunto Della televisione italiana Fantastico Frassica mi ha raccontato Sempre quando è venuto Al basement Che ha scoperto l'Undini Perché l'Undini Gli faceva dei video Delle cose strane Delle gag strane Però tutto quello Che fa Valerio Che fa Maccio Che fa Non sarebbe stato possibile Senza Frassica Nel senso che lui Ha inventato Un certo tipo di umorismo Che adesso fa figo È un po' l'umorismo Dei meme È un po' l'umorismo Che oggi va Il no sense E tutti dicono È diventato cool Ma immaginati Ovviamente Tanti anni fa Qua era una roba No ad avanguardia Io penso Fare indietro tutta Ma no Indietro tutta Sia stata una cosa Fuori di testa Io mi ricordo Uno degli schiacci Migliori di sempre Quando invitarono Troisi E i concorri Le squadre Dovevano Quizzo ovviamente Tutto finto Dovevano indovinare Chi era E siccome il notario Aveva scritto Che non era Troisi Ma Rossano Brazzi Lui lo stavano convincendo Perché la televisione Non può mai sbagliare Quindi c'era anche Una sorta di satira Che la televisione Non poteva mai sbagliare Perché si diceva In televisione La vita è tutto un quiz E Troisi Si convince di essere Rossano Brazzi È un cantante Credo degli anni 50 Tra l'altro mi chiedo Quando tu fai queste reference Nelle tue live di Twitch Quanto il pubblico le coglie Zero Però c'è un vantaggio in Twitch Quando io faccio queste reference Lì capisco che C'è proprio un dislivello Generazionale Io prendo Faccio reaction E glielo faccio vedere Bravo Lo sapevi perché non te l'avevo detto Io quando torno a casa Spesso e volentieri Mi guardo su Rayplay Indietro tutta Quindi se volete recuperarlo Sì mi guardo gli spettacoli Di una volta Funari E anche Arbore Quindi c'è tutto Indietro tutta Su Rayplay Se volete vederlo Comunque invece Io non sono d'accordo Sul fatto del Programma Cioè sono d'accordo Sul mondo DJ Per carità Assolutamente Vogliamo i nomi Allora Sono un po' eterogenea Sul gusto Anche un po' etero Sono molto etero Finora Poi non escludo nulla Nella vita Però per ora Sono molto etero Per me la musica È fondamentale Quindi negli ultimi anni Io ho apprezzato Proprio ai livelli Di fanatismo Max Brigante Con mi casa Sì Con mi casa Veramente Io lo stimo Tantissimo E quando mi capita Di incontrarlo Vi giuro Io sono super timida Quindi non ho il coraggio Di interfacciarmi Però comunque Lui lo stimo Veramente Grande Max Oltre ad aver fatto Tantissime belle cose Con la radio Sia come conduttore Che con la musica Con Mamma City Adesso è anche uno Dei manager Più importanti Musicali Più importanti Ultimo Poi mi piace molto Prima di addormentarmi Se non guardo indietro tutta C'è Virgin Motel Perché ti racconta le storie Eh quello è bello Ti approfondisce Determinati argomenti Insomma è bello Perché mi rilassa Moltissimo E poi ti fa entrare In un mondo Ti racconta bene Però affrontiamo L'elefante nella stanza E poi parlavo di eterogenità E mi piace molto Ogni tanto Per sfogarmi È il mio feticismo La zanzara La zanzara Mi fa molto ridere Ti conosco forse qualcosa Allora io sono impazzito Mi è uscito Te l'ho detto prima Mi è uscito Su TikTok E non lo sapevo Di questi tuoi interventi All'interno della zanzara Io amo la zanzara Perché penso che sia Uno degli specchi Più brutali Però anche concreti Di cos'è l'Italia È piena di freak Persone nascoste Complottisti Fuori di testa Completi E Cruciani e Parenzo Più Cruciani Parenzo è ignaro di tutto Però è quello il suo ruolo Infatti ultimamente Apprezzo molto di più Parenzo Perché sembra Che vada Vada in onda Schizzatissimo Non so cosa gli è successo Negli ultimi anni Negli ultimi mesi In realtà E sì Ho chiamato Ho chiamato Ha chiamato Agnese Per dichiararsi Apparenzo E il giorno dopo Chiamai io Incazzato nero Perché ero geloso Sì sì Ma tu hai avuto parole forti Anche nei confronti Di Cruciani Bah insomma No più chiaro Vi siete andati un po' A fanculo Ma quella è la base Però vedi Ad esempio Sulla zanzara Io all'inizio Avevo una Cioè Tra virgolette Ti disturbava Sì mi disturbava Ma no Sì All'inizio è così All'inizio lo fai Poi dopo in realtà Quella roba di ti rapisce Ti fa Ti fa Ti fa restare lì Ti fa vedere un po' Però mi è piaciuto molto Una frase che Recentemente Ho partecipato A un incontro Degli amici di Radio Speaker Che sono dei ragazzi Molto appassionati E che aiutano anche I Giovani Che si vogliono Buttare nel mondo della radio A formarli No E hanno fatto questa sorta Di festival Da cui ero stato invitato Era stato invitato Anche Cruciani E lui ha detto una roba Tipo io sono ossessionato Dalla radio Sì sì Lui è proprio malato E questa è una cosa molto bella Ma anche voi non mi sembra No no ma è ovvio che è così Ma è perché è un mezzo Che in qualche modo Lo devi anche amare Per me è stata Per me è stata Un'ossessione totale Decidere Cioè voler fare la radio E voler arrivare alla radio DJ io Sto pensando di mettere Un microfono in casa Perché ho la necessità Sì ragazzi Perché ho la necessità Durante il giorno Di parlare al microfono Cioè io non credo Che sia normale Comunque volevo dirvi Che dalle 18 e le 20 Non si ascolta la Zanzara Ma si ascolta Virgin Generation Siete vero Siete proprio competitor Volevo dire Però vedi La Zanzara è stato La Zanzara è uno dei podcast Più ascoltati in assoluto Io lo vedo sempre Ma da anni Da quando ancora Non ci si parlava di podcast Che era Perché anche I programmi radiofonici Per tanto tempo Sono stati chiamati podcast Quando li riascoltavi Perché poi era quello La Zanzara tra questi È sempre stato Uno dei più Dei più ascoltati Perché poi è stato Uno dei più grandi A creare community Anche lì c'è un parallelismo Cioè posso dire Che il Cerbero Vuole essere un po' La Zanzara Del mondo dello stream L'hanno dichiarato L'hanno dichiarato E poi hanno invitato Cruciani L'hanno invitato Parenza Eh no non l'ho vista No un amore dichiaratissimo Ah ok Non lo sapevo No loro ogni tanto Li seguo Poi trovo Marra Una persona molto intelligente Sì 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 E notavo che Perché vedi che poi Di riflesso si creano Un po' le cose In parallelo Dei vari Certo certo Dei vari mezzi Dei vari media Si declinate Sulle varie piattaforme Però magari Il germe è quello No L'imprinting Perché tanto Viviamo di ispirazioni Cioè Quindi è normale Ma infatti Ricordo la puntata Memorabile del Cerbero Dove Parenzo Va alla Zanzara E dopo tre secondi Prende il controllo Dello studio È inarrestabile Cioè sono bestia No va Scusami Parenzo va Allora al Cerbero Ah no Avevo capito Va alla Zanzara Scusa Ah ho detto Magari No Andata al Cerbero Parenzo dopo tre secondi Ha preso il controllo Di tutto Ma come quando Cruciani è andata Muschio selvaggio Dopo cinque minuti Parlava di Le mogli inculate Cioè non gli fregava nulla Capito Sono mostri Mostri veri Ma anche qua Io ho parlato tre minuti Ma anche perché Il podcast Non è la radio Sono due cose diverse Certo Però la Zanzara Per esempio Senza podcast Non potrebbe esistere Con tutte quelle sue interruzioni No è vero Sì però Il modo che hai Di fare un podcast Non è lo stesso modo In cui si fa il radio Perché la radio Ti dà Come dire Una palestra Non voglio dire Che una è meglio L'altra No però Allora dipende Qua ci sono due cose Che è il motivo Per cui poi Io ho iniziato A fare i podcast Che tutti quelli Molti di quelli Che volevano fare i podcast Facevano la radio Cioè Non facevano altro Che fare la radio Ma senza esserne capaci Però il podcast È montato Cioè questa è la grande differenza Ma c'è gente Che lo fa non montato Non per forza C'è gente che lo fa Non montato Però è un mestiere Cioè nel senso Io sono molto contento adesso Di come sta andando Il mio podcast Ma non sta andando così Per magia Ma perché Negli ultimi 15 anni Mi sono fatto un culo quadrato Ho imparato Un modo di fare Di fare cose Cioè Invece tante volte Oggi ti vedi quelli Che dicono Io faccio il podcast Sì Non è solo Accendere un microfono O avere Molti lo fanno Col foglio davanti Che leggono Eccetera La cosa è Sono due cose Secondo me Completamente Completamente diverse Per esempio Tu che cosa guardi I commenti I commenti Che cosa dicono È tutto a posto Questa cosa Non mi rassicura È tutto a posto Perché ogni tanto fa Perché non riesce A nascondere Quando legge una cosa Che gli fa ridere Sono stra curiosa No Poi te la puoi anche Recuperare in pasta Ok E anche quando caricherò La puntata La potrai vedere scorrere Quindi A schermo No vabbè Io la leggo sempre Per vedere se c'è qualcosa Che non va Però vedi Quello c'è Quello ad esempio È una roba molto simile Alla radio Ad esempio Quando fai la radio Una cosa che ho imparato È che tu non devi pensare Che la puntata Stia andando bene o male A seconda dei messaggi Che ti arrivano Perché se no Tu fai un lavoro Lavori per quelle Per poche persone Perché le persone Che ti commentano O ti mandano un messaggio Sono Un millesimo Di quelle che ti stanno Ascoltando in quel momento Quindi sì Chiaramente è un sentore Se qualcuno ti scrive Bravo Oppure se ti scrive Che cacchio dici Però non devi dare Troppa attenzione Al messaggio Cioè non devi Far guidare il tuo programma A seconda di quella cosa No hai ragione Perché che cosa sta arrivando adesso No perché io Faccio esattamente il contrario Perché mi piace Seguire loro A vedere dove mi guardano No allora Quello è un altro discorso Perché io ad esempio Parto Mi raccomando Dario Stai attento al clock A me questa roba Mi fanno dire Sì è vero Vedi però È un altro linguaggio È un altro linguaggio Però fa troppo ridere D'ora in poi Sarà sempre clock Sì sì Bobo Ci sono anche gli interventi Se vogliamo parlare Di altri argomenti Tra l'altro sul clock È successa una cosa bellissima Per quanto mi riguarda adesso Tu dici una parola a caso A Gianluca Gaggioli E lui ha un aneddoto No ma perché l'hanno presa Perché l'hanno presa Come riferimento È successa questa roba È la parola più rilassante Da quando mi sa Te l'ho fatta e ho altro Ti è bello Però se sto qui Ah bene Le godo Tanto ci hanno preparato Il primo intervento È successa questa cosa Molto bella Che mi hanno Paperinizzato Paperizzato Su Topolino Ah sì È stata una roba Clamorosa Per me è un sogno Inestimabile E nella vignetta Nella prima vignetta Spiego a Paperoga Col mio personaggio Giandac Gazzosa Che cos'è il clock E a me quella roba lì Mi ha fatto volare E come gliel'hai spiegato Paperoga A Paperoga gli spiego Gli dico Vedi noi a Radio Paperoga Perché io ero Giandac Gazzosa Di Radio Paperoga Abbiamo il clock E il clock C'è questa cosa qui E Paperino mi dice Vabbè non me la posso spiegare Compratevi Topolino E' uscito E' uscito Diciamo che sei stato quaccato 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 Sì Sarà una cosa incodita No 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 Tipo sodomizzato Primo intervento Gianna se riesce a spostarlo Perché sapete Un po' boomer Tipo un messaggio audio E una persona live Ah ok Sentirete Risponderete Voglio fare domande Interessantissime Con Gianluca Bisognerà fare mezzanotte Mezzanotte e mezzo Però cercheremo di farcela Prima possibile Vediamo se ce la fa Il nostro Gianmaria E tanto c'è Gianmaria Ciao Gianmaria Ciao Gianmaria Che ci aiuta sempre In questa missione E tanto controllo Anch'io per sicurezza Anzi Gianmaria da Salerno No da Napoli Non lo so Mi piace che hai Comunque Dario Tu fai la radio Stai facendo la diretta Su Twitch Tu sei un uomo di radio Eccolo Abbiamo Leox Ma parla Non ti sta a preoccupare Amore Ragazzi Che ne so Ovviamente stai parlando voi Ma interrompi Dici tutto amore Ciao Melissa Ciao Gianluca Ciao Dario Grazie mille per questa opportunità Ci mancherebbe Ci mancherebbe Dimmi Ragazzi allora Innanzitutto volevo dirvi Che mi trovo completamente D'accordo con Melissa Per quanto riguarda Il fatto di Sanremo Perché quest'anno Io sono speaker E uno dei responsabili Della mia radio universitaria E quest'anno Ho avuto l'opportunità Di andare a Sanremo E effettivamente È stata l'esperienza Più bella della mia vita Anche la possibilità Di accedere alla Lucio Dalla Fare domande Agli artisti È veramente Un'esperienza unica E sono qui per chiedervi Perché mi sono reso conto Dopo cinque anni di studio Che quello che in realtà Voglio fare nella vita È lo speaker radiofonico Ma mi sono reso Ben presto conto Che effettivamente È veramente complesso Perché non c'è Un modo vero e proprio Per mandare candidature Come qualsiasi tipo di lavoro Piuttosto io ho Le mie demo registrate E vorrei capire da voi Insomma Quale fosse il metodo migliore O comunque se poteste Darmi un consiglio A riguardo Per diventare speaker Eccoci La vera domanda Tra l'altro lui Mi sembra anche Che picchi parecchio No Ti dico un po' Sulla mia di esperienza Perché più o meno Ho vissuto quello Che vivi anche tu Cioè la voglia Di farlo Ma non sapere come fare Io ho preparato Anch'io Avevo la mia Avevo fatto questo cd Con tutta una serie di demo Che continuavo a mandare in giro E non mi E non mi filava nessuno Però magari mi dicevano Sì sei bravo Vorremmo Però sai Blah 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 E allora io mi sono detto Ma che devo fare In modo Che loro vengano Da me Devo farmi notare Devo fare in modo Che qualcuno Mi dia la possibilità Però per farlo Devo prendermi una possibilità Da solo E questo secondo me Oggi vale Ancora di più Rispetto a quando L'ho fatto io Una decina di anni fa Cioè devi costruirti Degli altri mondi Che sono tuoi Cioè non puoi fare Solo la radio Secondo me Nel 2023 Cioè tu Soprattutto in un mondo In cui tu hai la possibilità Oggi Di crearti un tuo pubblico Di creare delle persone Che ti seguono A quel punto Tu devi provare A appunto Raccontare Raccontarti Inventarti delle cose Cioè dimostrare Di essere già in grado In qualche modo Di attirare Un certo tipo di pubblico Sulle cose Che ti piacciono E poi devi avere Anche un po' di mondi Da portare Da portare in giro Con te Quando ti vai a proporre Tant'è che Questo possa poi In qualche modo Interessare a un editore Che dice Ah dai io prendo Questo ragazzo Perché cacchio Ha fatto questa cosa qui E bravo E sono sicuro Che darà un apporto Alla mia Alla mia Alla mia radio E a me questa cosa Di aver portato avanti Sempre mondi in parallelo Mi ha aiutato Perché tutta la parte Del web Mi aiutava In qualche modo A crearmi un pubblico E A fare video A fare cose Esperienze Soprattutto Tante esperienze Vivi più che puoi Perché la radio È quello che sei È quello che vivi È quello che vivi tu Sì se no non hai niente da dare Se no non hai niente Da dire Da dare Perché i canali Ormai diciamo Quelli più tradizionali Come può essere La televisione E la radio Stanno a guardare Oggigiorno Molto I content creator Che cosa succede Sul web Quindi quello Secondo me È il miglior biglietto Da visita E non vuol dire Avere un milione di followers Perché poi tante volte Ormai i mezzi tradizionali L'hanno capito Secondo me l'errore Prendevano quello bravissimo Quello che aveva Un milione di followers E lo mettevano in radio Eh però a volte Mi converte No quasi mai Quasi mai Anzi quasi mai Non dimmi Ci sono pochissimi casi Claudio Claudio di Biagio Era bravo secondo me Beh però Claudio Faceva una cosa Anche molto verticale Sulle cose che gli piacevano Lui con Fede Bernocchi Che sono grandi Insomma Anche con Magalli Anche con Magalli È vero Io e me anziano YouTube E comunque Anche per me È successo allo stesso modo Nel senso che per me La radio non è arrivata Tramite un provino Ma è arrivata Un provino diciamo Automatico Cioè è arrivata Perché io stavo facendo Delle altre cose Ovvero dalla televisione Che quindi all'interno Della stessa azienda Dove c'era anche la radio Mi è stata data Quest'opportunità Ma perché stavo facendo Televisione In un certo modo E poi la radio È quella cosa Che ti prepara su tutto Cioè se tu sai fare la radio Facci caso Se tu sai fare la radio Poi sai fare la televisione E Chi fa televisione Non è detto Che sape fare radio Chi fa radio Molto probabilmente Sa fare televisione Esattamente Sì Infatti i più grandi Da sempre Sono passati dalla radio Questo secondo me È un altro Gerry Scotti Magalli Amadeus 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 Cazzata neve Gazzoni Gazzoni Dario tra poco Che firmerà un contratto Dario ci fa un culo così Tra poco Non è vero Ma non è vero Non sono buono Non sono bravo Andiamo avanti Dai Grazie mille Leo che sei soddisfatto Penso ti hanno fatta la masterclass Solo per te Niente È svenuto Leox Sono tutti i coglioni Delle nostre risposte Se ne è andato È colpa di Gazzoli Il momento morto Il radio Leox Leox Si chiamava Leox Ciao Mio fratello Per davvero E poi giusto Farsi i contatti Anche comunque Per esempio Ormai al contatto Di Gazzoli Certo Leox Scrivimi su Instagram Se ti è piaciuta La nostra risposta Vai Prossimo Parla Interrompisci pure Se ci sei Buonasera Buonasera Ciao Ciao Come ti chiami? Marco Ciao Marco Dimmi tutto Dici tutto Un piacere Veramente Allora La mia domanda Si collegava Al discorso Che si era già Mezzo aperto Podcast E radio Che io Da fuori Io mi occupo Di marketing Quindi ragiono Anche su Sull'offerta Che viene dal pubblico Eccetera Eccetera Da fuori Cambia il mezzo Però alla fine Il format Di benato Quello Sono voci davanti A dei microfoni E oggi Quello che vedo È un fiorire Continuo Di questi podcast Ormai su tutto E ovunque E mi sembra Un po' di vedere Una situazione In cui Con delle luci giuste Dei microfoni Tutti quanti Sembrano assumere Una sorta di credibilità E quando poi Magari spesso Fanno cose Di scarsa qualità O addirittura Disinformazione Voi che venite Dalla radio E che quindi Avete vissuto Insieme alla radio Un periodo Di strutturazione Del mezzo Di formalizzazione Del mezzo E anche Delle forme Espressive E quindi Avete guadagnato La credibilità Sul campo Come vivete Questa cosa Ovviamente Mi riferisco Sempre verso Podcast Che Ripeto È come se Acquistino La credibilità Grazie alla forma Che oggi Stanno andando Molto di moda La vedete Come una competizione La vedete Come una moda Passeggera Influisce Sui vostri contenuti Tutte belle domande Sì sì Lui mostro Assurdo Poi incazzato Come un mostro Vuole Ma secondo me Non prendi credibilità Per la forma Assolutamente Prendi credibilità Se la gente Ti ascolta Se sei Interessante Se Poi col tempo Di mostri Di Di mantenerla Di mantenerla Quella credibilità Sono d'accordo Io non subisco Diciamo Questa competizione Ma perché Per me Sono due lavori diversi No Sono due cose Che possono convivere Secondo me Non sono due lavori diversi Però sono due cose Che possono convivere Perché viaggiano Su due reti Ma la radio Ha una tecnica diversa Dal podcast No ma non è detto Cioè Il podcast Poi è vero Come dice lui Se ne fanno tanti Ce ne sono tanti Ma quanti vengono ascoltati Davvero Vogliamo parlare Di numeri Di cose che vengono ascoltate Sì può capitare Il reel O il tiktok Che va virale Con la musica Sottoromantica Eccetera Però il podcast O l'ospite che spinge Però di podcast Cioè secondo me Sono proprio Poi vabbè Ci sono delle radio Che proprio Sono molto simili Anche al podcast Eccetera Però viaggiano Su binari paralleli E non sono convinto Di questa cosa Nel senso che La forma dura Fino a che Io accendo Poi dopo un po' Anche i podcast Quelli più Blasonati No Blasonati no Più popolari Di cui magari Le persone sanno il nome Poi in realtà Conti fatti Non sono Quelli più belli Nel senso che Non sono quelli Qualitativamente Migliori Cioè io Ho voluto fare Il mio podcast Perché vedevo Altre cose E dicevo Cazzo Ma io quella roba La so fare molto meglio La devo fare anche Sul web Perché Ho fatto Ma non per presunzione Ma perché ho fatto Un percorso Ho fatto delle cose Dicevo Non è che accendi Un microfono E parli al microfono E stai facendo il podcast O hai l'ospite più figo E quindi Quando vedevo certe cose Oppure degli ospiti Molto interessanti Molto belli Ma non si tirava fuori niente Eccetera Ho detto Voglio provare A farlo io E poi vedendo Molte cose che accadevano In America Era una roba Che già Avevo in mente Da un po' Marco Marco giusto Non vorrei aver dimenticato Ma che cosa intendi Con forma Cioè qual è la cosa Che ti ha colpito Cioè secondo te Qual è la forma Che attira più Del contenuto Nel podcast Io Mi riferisco Molto Al fenomeno virale Quindi da un certo Punto di vista La risposta quadra Perché la viralità Comunque È un estratto Un video di un minuto Tre minuti Ma poi effettivamente Non è detto Che stai due ore A sentire quelle persone Perché magari effettivamente Non hanno niente da dire Però la forma A me sembra Che oggi È un po' come Quando sotto covid Tutti quanti C'era il video Che girava su whatsapp Di quello col camice E pareva un dottore E oggi Dato che è facile Comprare Delle luci belle E mettersi raddosso A me sembra Che su web Questi fenomeni virali Acquisiscano credibilità Quasi solamente Per come si pongono Ecco Nella struttura Cioè nell'immagine Ma hai ragione La credibilità Secondo me Si misura col tempo La viralità È un picco Quindi è proprio Un'antitesi Però è vero È vero Verissimo Ed è vero Anche quello che dice lui Nel senso che oggi Viviamo il periodo storico In cui Il contenitore Sembra Che valga di più Del contenuto Ma in realtà Sulla lunga Il contenitore Non basta Quindi tu mi puoi attirare Io ascolto la tua cosa O il mio tiktok O il mio reel Va virale Ma poi finisce lì E soprattutto Se dici una cagata A un microfono Non è che se ci metti sotto Ludovico Inaudi Allora diventa una roba intelligente Sempre una cagata Proprio cardine Che è tintoria Che con Dusgabelli E un palcomarcio Sono riusciti a fare qualcosa E a volte le domande Non esistono C'è solo lì Che fanno Ma che te guardi Stasera Quello Però è anche lì È un podcast Comico Cioè è una cosa Diversa La cosa bella È che poi ci sono Tante tipologie Di podcast diverse Come ha detto Melissa È che loro Ah si non c'è la forma No 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 Ma poi anche Andando Cioè loro Non è che sono diventati virali Loro col tempo Hanno acquisito una fanbase Che si è accresciuta È quello che fa È quello che fa E però Chi ti ascolta Poi per un'ora Inevitabilmente Tu hai una Una penetrazione Nei suoi confronti Il suo Come dire Cioè Hai un impatto Su chi ti ascolta Molto molto importante Perché il TikTok Però ti Cioè ad esempio Io ragionavo È una cosa che cerco di fare Anche con la radio Perché poi secondo me La nostra generazione E da qui in giù È bello perché Contamini le cose Quindi La radio secondo me Oggi è imprescindibile Dal mondo dei social Devi inventarti delle cose Per farla andare lo stesso Stessa cosa Il podcast Secondo me oggi funziona Ad esempio Quello che cerco di fare Io col basement È proprio Fare multipiattaforma Cioè io col TikTok Sì ok Te lo dò Te lo faccio vedere Alcuni va virale Ma ti incuriosisco Per venire a vedere La puntata completa Poi alcuni li converti Altre si vedono solo quello Però Sono tutte Dei piccoli ganci Per poi farti arrivare Il contenuto Certo Quello da Da un'ora Il piatto forte Il piatto forte Sei soddisfatto Marcone? Sì sì Una bella risposta È bella anche la domanda Quindi grazie Grazie Marco Ciao 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 Il prossimo Top Topperia Andiamo dai Dimmi Ciao 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 Buonasera Sono Filippo Musicista di Verona Ciao Dario Ciao Melissa Ciao Luca Ciao ciao E voglio vedere Una domanda Praticamente Una band Un artista Oggigiorno Cosa deve fare Per essere Ascoltato in radio Perché Secondo me Riferendomi A un'intervista Di Damiano Di Maneskin È vero che Se non hai I numeri Sui social Non sei nessuno E quindi Lui ha detto questo? Lui ha detto questo? Damiano aveva detto questo? Damiano Di Maneskin Ma dipende dalla radio Anche Perché ci sono radio Che Hanno una considerazione Della musica maggiore Perché puntano di più Su quello Altre meno Cioè Dipende anche molto Dalla radio Però Oggigiorno Secondo me È più un discorso Discografico Cioè Ma dipende Devi farti notare Adesso il mondo della musica È totalmente Fine del processo Allora non solo In realtà dipende Adesso il mondo della musica È totalmente cambiato Stiamo assistendo a un periodo In cui Vanno Metti Dei pezzi nuovi In rotazione In radio Che magari sono usciti Nel 2011 Vedi il caso di Lady Gaga Di Bloody Mary È una canzone Che è uscita nel 2011 Però è andata virale Grazie a Mercoledì E allora Ritorna forte Un pezzo del 2011 E arriva in rotazione Così come è successo Per un gruppo Adesso non mi ricordo il nome Loro si erano addirittura Sciolti È andato virale Su TikTok La gente se ne è accorta Non abbiamo iniziato a passarlo Running Up The Hill Di Kate Bush Con le serie tv Anche succede Sì però è tutto un lavoro discografico Non c'è più Colui che ti porta La cassetta In radio Per farlo ascoltare È un lavoro Che viene fatto Da un team di persone Sì e no Perché poi alcuni casi ci sono Io mi ricordo ad esempio Con la DJ Ancora è capitato Diverse volte Di lanciare una band Che è una cosa che non succede Però i giornalisti Siamo stati i primi A passarla Madame Siamo stati te i primi A passarla Anna Aveva mandato Una cassettina Che non era una cassettina La mamma forse di Anna Addirittura L'aveva mandata ad Albertino Però perché conosceva Albertino Se uno non conosce Non ha contatti in radio Deve fare un percorso diverso No quello è sicuro Quello è sicuro Però non è Cioè Ci sono radio come Cito RDS Si chiama RDS Grandi successi Quindi quelli che passeranno Sono solo delle canzoni Che sono dei grandi successi Poi ci sono delle radio Che invece magari ogni tanto Scommettono anche su Della cosa nuova Ma in ogni caso oggi Quello che dice Damiano Forse non è troppo lontano Dalla realtà Però c'è anche da dire Che c'è gente con numeri Molto grossi Che però magari In alcune radio Non viene passata Quindi non è neanche Non è neanche automatico Questo parallelismo Però sì Chiaramente c'è sempre Il percorso da fare E oggi sempre di più Per fortuna è tornato Il concetto del percorso C'è stato un periodo In cui esistevano Solo i talent E se non facevi un talent Il tuo pezzo Non poteva uscire O tu non potevi uscire Invece oggi Grazie Dal 2016 in poi Secondo me Oppure sai cosa Anche adesso A differenza del passato Anche se ci sono i talent Che comunque Continuano ad essere seguiti Ma funzionano sempre No Hanno avuto un'evoluzione Secondo me In positivo Ma ti spiego perché Perché adesso I ragazzi Che partecipano A questi talent Parlo di amici Per essere chiara Fanno praticamente Tutti degli inediti Una volta Era un'esecuzione Di brani Di qualcun altro Tanto gli inediti Ormai lo fanno Tipo a marzo Già Però capisci Comunque diventa Una produzione Di qualcosa Di personale Non è una mera Esecuzione Piano bar Ok E questi E quindi C'è già il processo Discografico All'interno Della Della trasmissione Il talent Secondo me Poi lo ha dimostrato Il tempo Io trovo E penso sia Più Sia controproducente Per un artista Sia Perché tante volte Tu fai un talent In cui magari Per tre mesi Ti fanno credere Di essere dio sceso in terra Poi finisce il talent E non sei nessuno Più che altro È la legge Dei grandi numeri Nel senso che ovviamente Su tantissime persone Che provano a fare Quella cosa lì Non tutti potranno arrivare Ad altissimi livelli Però se pensi a Mengoni Quasi nessuno Cioè se tu conti Quanti in talent Eccetera Ognuno dei Dei protagonisti Che poi ha vinto Ed era un grande talento Cioè Come ci sono stati Tanti talenti Che poi ce l'hanno fatta Mengoni Maneskin Che proprio di Maneskin C'è stata anche Un'altra storia Cioè Damiano È chiaramente un fenomeno Però ha dovuto comunque Fare un percorso Dopo Ci sono incastrate Tante cose Sanremo L'Eurovision La canzone Che è andata virale Su TikTok Ci sono stati tanti fattori Loro ce l'avevano L'X Factor Che poi non hanno vinto Tra l'altro È vero Quindi neanche l'hanno vinto Ma hai mai sentita La cover Dei Maneskin Di Olio Di Semi Di Girasole Un cantante indie Non so mai Non capisco mai Se mi piglia per il culo Io voglio vedere Dove va arrivare No no basta Non l'ho sentita Non so se è un La possiamo sentire Se è un easter egg No non è un easter egg Giù Ok ok Comunque no La roba dei talent Forse qualche anno fa Negli ultimi anni Esiste un'altra strada Che è quella Che ti permette Di restare nel tempo Secondo me Perché Come dico Ti hanno Non lo so È un po' Un concetto Un po' Un po' Particolare Secondo me Infatti non a caso In Italia È l'unico paese In cui ci sono ancora Alcuni talent Che da altre parti Non esistono più Secondo me Se tu sei bravo Hai del talento Hai un percorso In testa Hai delle idee chiare Insomma non devi fare un talent Perché quella roba Rischi che ti bruci Tanti talenti Magari sono stati bruciati Oppure Magari hanno fatto poi Percorsi Magari percorsi Diversi E devono ripartire Da capo Cioè finisci un talent E poi comunque Devi ripartire da capo Perché la gavetta Non la puoi saltare Se salti Anche Ecco la cosa Che ho imparato Dal mio percorso E da tante persone Che magari Guardi Osservi È che non esistono Scorciatoie mai Nella vita Il mondo vianello Diceva Se non fai la gavetta Poi si vede E poi si vede E nella musica Maggior ragione Sul palco Ci devi Ci devi stare Il palco Poi è la prova È la prova del nove Ci sono persone Che dopo un talento Dopo magari questo successo Bruciante Finiscono subito Nel dimenticatoio E quindi Cazzo Cioè tu ti vai giù Ci vanno giù Madonna ma sai quanti O magari ci sono anche persone Con talento Che però Hanno bisogno Di fare un percorso Che invece Magari vengono bruciate Subito Ed è un peccato Magari se gli dai Più tempo E gli dai il tempo Di crescere Poi arrivano a ver E poi ci sono tanti talenti Che Devono cantare Le loro canzoni Cioè Non puoi fare Cioè ci sono alcuni artisti Del passato Che se ci fossero stati I soli talent Ovviamente non sarebbero Non sarebbero usciti Ma zero Frank Zappa Sarebbe stato preso Pedati nel culo Nel mondo di oggi Poi alcuni Chiaramente Per i grandi numeri Perché immaginiamo Quanti talenti Ci sono stati Negli ultimi 15 anni Quanti ci hanno partecipato Quanti poi realmente Hanno Hanno Spaccato Alcuni Fortunatamente Erano dei fenomeni Ma anche per Mengoni stesso Non è stato un percorso facile Non è stato un percorso facile Quindi Poi se ce l'hai Ce l'hai Poi c'è tutto un altro Mondo Comunque per rispondere Alla domanda Dell'amico Che abbiamo salutato Però l'abbiamo detto subito Cosa deve fare Comunque come dice Melissa Secondo me è giustissimo Devi crearti un tuo percorso Una tua identità Devi avere Una tua cosa forte Anche le persone giuste Questa è una delle cose Più difficili In assoluto Avere di fianco La persona giusta Che vuole il bene per te Sì E poi tu devi essere Altra cosa di oggi Che è un vantaggio Uno svantaggio Allo stesso tempo Magari una volta Tu trovavi uno Che in qualche modo Ti faceva il video Ti metteva in contatto Con qualcuno Ti faceva Cioè Prendevi uno che a braccetto Ti portava nel tuo percorso Oggi quello che noto È che non esiste più Questa cosa Per nessun settore Per altro E quindi devi essere tu Non solo l'artista Devi essere anche il videomaker Devi essere anche il designer Devi essere anche il grafico Devi farti anche gli applausi Alla fine Perché all'inizio Non te li farà nessuno E come lo capisci Dopo che hai preso Dei calci in faccia Dopo che hai fatto Determinate cose E dici Ma no ma a me così Però non va bene E allora dopo capisci Che certe cose Te le devi fare da solo Ci devi arrivare da solo Come nella carriera in radio Tra l'altro Che abbiamo citato prima Praticamente è un po' Lo stesso principio Beh sì Ti prendi calci in faccia E poi magari capire Qual è la tua strada Vale per tutti i tipi di lavoro Poi nel caso magari Dello spettacolo Sembra tutto Sembra un po' più amplificato Però vale veramente Per tante cose E ogni cosa Deve avere il suo tempo Guarda paradossalmente Più la crescita è Lenta È lenta Meglio è Grazie mille tesoro Ciao Grazie a voi Grazie alla risposta Ciao Super Ciao Ciao Era meno male Era ancora qui Era anche sveglio Non pensavo Se fosse addormentato Dall'anno stato esposto Il numero uno Prego 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 Che ci sono ancora alcuni Altre sei Bello Poi vediamo se riusciamo Bene Tutte domande interessanti Oggi Veramente Top Prego 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 Chi c'è? Pronto Pronto Ciao Ciao Buonasera Ciao a tutti Dimmi tutto Ciao Allora io volevo chiedervi Un po' come ha anticipato Forse ragazzo Che è stato due Oggi ti pagano Attenzione Scusami Melissa cede Prende lo sgabello Attenzione Io non cederò mai Però Attenzione Siamo arrivati a una certa Soprattutto di età Ma che età Scusa Scusa Vai Continua No no Ficuro che Scusa Scusa Non ti abbiamo sentito Non ho capito Ripartire al capo Che Melissa Stava lottando Stava picchiando Con lo sgabello Vai Attenzione Non fatti male No dicevo Stavo per fare una domanda Un po' magari Che uccide il mood Meglio che si sia Messa comodo Insomma Spero di no Comunque Vai Però Volevo chiedervi Ma non so se sono io Io sono un pochino più giovane Di voi Credo Ho 28 anni E Ho visto che Negli ultimi anni Comunque c'è stata Secondo me Una battuta d'arresto Un po' Sul medium Sul medium radio Sia per i podcast Come diceva il ragazzo Prima Ma anche comunque Con tutta l'alternativa Che c'è Di non so Audiolibri Piattaforme di streaming Oppure si può mettere In sottofondo Twitch Youtube Qualsiasi cosa Volevo sapere Se anche Secondo voi C'è stata effettivamente Questa battuta d'arresto E Sia che Ci sia stata Secondo voi Oppure no Quale può essere Il futuro Della Della radio FM Classica Diciamo Che dite? Ma secondo me Non c'è stata Una battuta d'arresto Se ne è parlato prima Ma allora Sicuramente Non so come dire Come percepito Come dice lui Secondo me Veramente ci sono Tante alternative Quello È sicuro Non ti so dire In termini numerici Non sembrerebbe Nel senso che Anzi I numeri Della radio Degli ascolti C'è anche da dire Che io non sopporto Il modo in cui Vengono registrati Gli ascolti Della radio Tutti questa roba qua Vabbè ma è assurdo Che nel 2023 Vengano registrati Ancora così Ma puoi spiegarlo Come funziona Funziona con delle Indagini telefoniche Cioè ti chiamano A casa Non per forza Al cellulare Anzi di solito Chiamano i fissi Quindi risponde Mia nonna Non ho chiamato Al cellulare Sì Però io sono stata Sincera Ho detto che Non potevo rispondere Perché lavoravo Io no Io ho fatto finta Ho detto che Facevo un altro lavoro Volevo sapere Quali erano le domande Come venivano fatte Ma sei un certrone E una persona Ti chiede al telefono Ti chiede Allora Ti dirò una serie Per ogni orario Che io ti dico Ti dice il nome Di tutte le radio Ognuna di quelle radio Quanto l'ascolti Quindi un'indagine telefonica X Su un target di persone Non lo so Con tutti i mezzi Che ci sono Sembra una cosa Un po' vecchiotta Totalmente vecchiotta Però questo per dire Non lo so Se sinceramente Se è cambiato o meno Secondo me È aumentata la qualità Cioè chi ascolta la radio L'ascolta a maggior ragione Ancora Con più attenzione Con più voglia Si sente parte di qualcosa Che è la vera forza E vera forza della radio E la maggior parte Degli altri mezzi La vera prova del nove È che imitano la radio Ricordiamo il famosissimo Si chiama quell'app Che poi non si è inculato Più nessuno Durante il lockdown Quella della voce Sì sì L'app che Clubhouse 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 Perché tutti credevano Che bastava avere Solo la voce A quel punto Però poi ti rendi conto Che non è che basta Accendere un microfono Come dicevo prima Ma anche lì Se tu non hai niente da dire Puoi stare anche su Clubhouse E nessuno dice niente Infatti prima Non mi ricordo Il nome del ragazzo Che ci diceva Ormai chiunque può Accendere un microfono Stare davanti al microfono E parlare Ma quello non è fare radio No no Cioè sembra Ma non è fare radio Però tutti scimmiotti Cioè tutti comunque Partono da un modello Scimmiottante Di quello che succede In radio Quindi da anche Alcuni podcast Sono proprio Limitazione di quello Che succede in radio Ci sono le stesse dinamiche Le stesse robe Alcune live su Twitch Anche hanno alcune dinamiche E quindi questo vuol dire Che quel mezzo lì È ancora attrae È ancora fascino Perché si prende spunto Da quello Quindi io credo Che la radio continuerà Proprio perché Ha questa genuinità Questo anche fatto Che qualcuno Ti ha scelto Cioè Io non sottovaluto Questa cosa qui Cioè sono contento Che Giustamente ci sia Un modo democratico Per cui tu puoi Accendere Fare i tuoi contenuti Fare quello che vuoi Secondo me È la figata di oggi Però se tu sei Una radio In quella radio lì È perché qualcuno Ti ha scelto E ha ritenuto valido Che tu potessi essere lì A parlare Con questo microfono Quindi parte di un gruppo C'è quel discorso Di senso di appartenenza Che è sicuramente Molto Molto forte Quindi questo È sicuramente Una cosa che Insomma Dà ancora un valore Un valore in più E poi appunto Rispetto agli altri mezzi Possono andare Secondo me Chiaramente In In parallelo Perché non Vengono sostituiti Però ci sono poi Tutti anche gli eventi Collaterali Che fanno la differenza Rispetto agli altri Mezzi di espressione No Cioè Di solito Le radio Creano anche Un modo Di stare con gli ascoltatori Anche al di fuori Questo È vero Secondo me Lo faranno Anche a tante altre cose Che stanno succedendo adesso Cioè la radio Magari Esisterà Ma cambierà Cambierà forma Sicuramente Cioè Non sarà quella Che siamo abituati A pensare adesso Che alcuni cercano Comunque di conservare Di preservare Ma il cambiamento È in atto E lo stiamo vedendo Sì no Dicevo che mi piace molto L'altra parte della radio Che come abbiamo fatto Anche noi È di raccontare Gli eventi live Sul posto Però facendo radio Questa è una cosa Questa è una cosa Che non è replicabile Secondo me Sui social Fatto in quel modo Lì Sì sì Assolutamente Cioè Anche il fatto Di entrare a contatto Poi anche con le persone Che ti ascoltano È una roba Secondo me Molto molto bella Secondo me Cambierà Cambierà sempre di più Forma Ma non Non potrà Cioè Sai Quando tutte le macchine Avranno E già sta succedendo La possibilità Cioè Tu vuoi Ascoltarti Quello che vuoi Cioè Non so come dire Tu se vuoi Sei in macchina Ormai sempre più auto Hai Spotify Ti ascolti la musica Che vuoi Ti ascolti il podcast Ti ascolti la roba Però ogni tanto Hai bisogno Di un amico Che ti dice qualcosa Che ti mette questo Ti dice Ascolta questo pezzo Che è forte La gente ha bisogno Del programma radiofondo Sì Ha bisogno dell'amico Che ti dice Oggi ho visto questa serie Sai che È molto bella Prova a guardare Ah sì Eccetera Quello che ti dice Ascolta questo disco O magari anche quelli che si incassano l'uno con l'altro O quelli che si incassano l'uno con l'altro Eccetera E quindi quella roba continua a cambiare E continuerà ad andare avanti così E poi si fonderà magari sempre di più Con il mondo dei podcast Perché alla fine Ripeto Non è nulla di rivoluzionario Ma poi la direzione sembra quella No Cambia il mezzo Quindi la radio fra un po' L'FM Boh c'è già la DAB Che è una radio Che è un modo di trasmettere Che funziona molto Ci sono le app Cioè ci sono Ci sono tante cose Io anche per le cose che faccio Io extra radio Mi ispiro chiaramente a quello che è successo Che succede con la radio Ma perché È un modello Che è una cosa che c'è Che funziona Ma che non è che viene Cioè com'è Nulla si crea Nulla si distrugge Tutto si trasforma Ma tutto si trasforma E anche la radio si trasformerà E io tra l'altro Riferendomi a quello che hai detto te Ho notato la mancanza Per esempio Di un programma contenitore Dopo la mia generazione Perché per esempio I ragazzini Guardavano solleti Guardavano programmi contenitore La melevisione Albero azzurro eccetera A un certo punto Tutto questo è finito È cessato Erano cartoni solo sparati In faccia Secondo me In radio questa cosa Insomma si farà fatica A raggiungerla Anzi Cioè che cosa Quest'involuzione Ti hai detto Ah sì 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 Senta della persona Che mette il pezzo Che ti dice qualcosa Ti racconta Anche semplicemente Legge il giornale E ti racconta I fatti del giorno Questa cosa qua È mancata nella televisione Nella tv per ragazzi Ho fatto un documentario Senta della tv Per ragazzi Dove tutti mi dicevano Questa cosa E rosicavano Un botto Per questa roba Nella radio Secondo me Sarà difficile perderla Ed è un vantaggio Ovviamente Beh sì Sì Sicuramente può essere Sì Beh c'è anche La grossa differenza Tra la diretta Che è una cosa E la registrata Che è un altro mondo Completamente Ma per me la radio È solo diretta Io quando devo registrare Per magari necessità Mi sento male Perché A me la diretta Affascina parecchio C'è una cosa però Che secondo me Alcune radio Hanno sbagliato Perché stanno Dando tutti per scontato Che la radio Non viene più ascoltata Dai giovani No E quindi molte radio Hanno smesso E rinunciato A parlare ai giovani E invece secondo me Quella è una cosa sbagliata Perché non è vero Che non ascoltano Tu devi parlare La loro lingua Per farti Ascoltare Quindi andare Dove loro ci sono Creare delle cose Eccetera E la radio Dovrebbe Avere Sempre di più Questo contatto E molte radio Secondo me Sono rimaste Conservatrici Per paura Di tutte le cose diverse Che accadono Non c'è un programma Per ragazzi Solo Ma ci sono Ci sono Dei programmi Un po' Ad esempio Da noi c'è Uad Che fa Sei Uad Che parla Delle cose Di cui parlano i ragazzi Io stesso Faccio Io sto in mezzo Quindi cerco di interpretare Un po' Entrambe le generazioni Ma prettamente Quelli più più giovani E lo capisci Da chi Ti manda i messaggi Quando io vedo Che arrivano gli audio O chiamano ragazzi Della mia età O più piccoli Comunque ci sono anche loro Invece molte volte Si dà per scontare Che non ci siano E quindi devi fare Le cose mirate Che non vanno Solo in radio Cioè tu non devi pensare Ormai fare la radio Non è solo andare in FM Ma è inventarsi Tutte le cose Colliderali C'è anche la visual radio Che è comunque Un strumento Accessorio Perché comunque Rimane sempre radio Noi quando andiamo In onda in video Non è che guardiamo la camera Noi comunque pensiamo Sempre di fare radio E quello deve essere il focus Però è uno strumento In più che può Ecco perché ti scaccoli Ogni tanto E tanto me sento libera Però comunque È uno strumento in più Che può avvicinare Sai per me Quello è un peccato grosso La webcam negli studi Era bello il fascino Del mistero Della voce Però ormai Non puoi più Ora devi essere sempre Il frontman di te stesso Devi sempre farti vedere Mostrare Quella è una cosa Che ha aiutato molto Anche a livello di marketing Perché poi Quel discorso Che facevo prima Del fare le chiamate E dire che radio ascolti Poi a volte Non vince neanche La radio che ascolti di più Ma la radio Che ha lavorato meglio Sul marketing Amico mio Grazie mille Grazie mille Grazie mille Il tuo intervento Ti abbraccio Grazie Per l'ultimo commento Che è stato molto interessante Sui giovani Grazie mille Figurati Super Prego 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 Prossimo Io ragazzi Oggi parlo meno Perché non devo fare nulla Oggi proprio ascolto Apprendo in silenzio C'è un sacco Megadrive bellissimo Delle cose bellissime C'è il mini Che fece Il boy così Devo ritrovare Io ce ne ho una trentina Qui sotto di Davvero? Collezionista Tu hai? Sì sì certo Vai vai prego Buonasera Dimmi No sono un po' afferente Perché nel Fai il discorso Che stavate facendo prima Avete risposto alla domanda Ciao Alla prossima Grazie mille Di aver partecipato Non fare il cruciani Della situazione No no Riformulare in un altro modo Una seconda domanda Di riserva Che tra l'altro Gli ho suggerito io Quando? Eh sul disco Ah ok No non è vero Non me lo ricordo Vai vai comunque No niente Perché io ve lo chiedo appunto Cioè Qual è il valore aggiunto Della radio Perché è una persona Che può scegliere attivamente Cosa ascoltare E guardare Dovrebbe scegliere Invece di guardare la radio E però c'è una domanda Un po' collegata E cioè La radio è nata Chiaramente Molto prima di Spotify Tutti questi programmi qua E la domanda è un po' Ma Il valore che ha La radio Sarebbe stato lo stesso Se la radio fosse nata In contemporanea Ai podcast E a Spotify O avrebbe perso un po' Di suo fascino Se la possibilità Di scegliere attivamente Ciò che vogliamo Ci vuole stata da subito Insieme alla radio No secondo me Sono due cose Completamente diverse Perché io le vivo Tuttora Completamente In modo diverso E quindi Il podcast è andato Il podcast è andato Proprio a colmare Quel buco Che Che le radio Avevano smesso Di riempire Mi spiego Cioè Una volta C'erano sempre Molti più Programmi Verticali O sulla musica O su delle tematiche O su degli argomenti Eccetera Eccetera E poi Negli anni Invece si è Generalizzato Sempre di più Perché si è cercato Di allargare Sempre di più Il pubblico E quindi Ci sono sempre Stati meno Spazi Per approfondire Delle cose in radio Sia con gli ospiti Che con i pensieri Di chi Di chi conduce Fino a che Non è arrivato Internet Quindi il mondo Dei podcast Che ti permette Di avere il tempo Che vuoi Per parlare Di quello che vuoi E andare soprattutto Verticale sugli argomenti E quindi ha tolto Quest'incombenza Che comunque Non faceva più la radio Ma che fa Il mondo Il mondo Dei podcast Quindi secondo me La radio All'inizio Erano I podcast I podcast Di oggi E solo che poi La radio ha smesso Di essere un podcast Ma è diventata La radio Come la conosciamo oggi E allora È arrivato È arrivato Il podcast Insomma A far approfondire Chi vuole approfondire Sulle cose Può avere un senso Mi sono un po' persa Non l'ho mai fatta Sta riflessione Però forse Forse è senso Poi io si vede Che la vivo In modo completamente diverso Per me Il podcast Rimane sempre più freddo Proprio per le caratteristiche Che dicevamo prima Quindi essendo due cose No è totalmente più freddo Quindi essendo due cose diverse Per me l'una Non va a intaccare l'altra È totalmente È totalmente più freddo Il podcast Poi dipende Più in che dici Ci sono tanti Beh sì infatti C'è l'ipotes Che ti racconta una storia Uno che ti racconta un omicidio E anche il fatto che il podcast Non ha un dialogo diretto Con l'ascoltatore Non c'è l'interazione Già questo È una natura Li dà una natura Completamente diversa Per questo possono Tranquillamente Continuare a convivere Esatto Perché sono due cose diverse Ma è quello che abbiamo detto Anche prima Cioè secondo me Ci sono programmi Che campano Anche per il podcast Ma che vanno in diretta Ci sono invece podcast Poi il podcast C'è anche da dire Che è anche un trend Nel senso Io mi auguro Che continui per sempre La radio c'è da tantissimo tempo Poi vediamo se anche il podcast Secondo me il podcast Andrà avanti Si evolverà anche Diventerà Qualcos'altro Perché poi a volte Chiamiamo podcast Anche quelli che sono Dei talk show E eccetera eccetera E poi sai cosa Il podcast Lo scegli principalmente Per il contenuto Ok Mentre la radio La scegli sia per il contenuto Ma anche per la persona Che ti sta parlando Secondo me È molto più determinante La persona È il radio Al pari del contenuto Rispetto al podcast Bene Anche te Sarei soddisfatto Amico mio Sì sì no Sì sì Sta andata bene comunque Ma avevi C'era l'altra domanda Era questa No la seconda era questa L'altra domanda Era questa Posso un attimo Allargare la cosa Dimmi Prego Vai 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 No perché Cioè in realtà Durante tutta questa puntata C'è stato molto Un focus sui podcast Ma in realtà Nella parte anche Musicale della radio Perché per esempio Io parlo per me Lavorando in un bar Io vedo che al mio bar Si accende la tv Si mette RTL 125 Però poi l'audio della tv È a zero Si mandano solo i video Si mettono lì su Spotify Cioè dal punto di vista musicale La radio Quindi è ancora Può servire a qualcosa Anche per esempio La domanda che ha fatto prima Ragazzo Come fa una band A farsi passare il radio Ma farsi passare il radio Ha ancora un senso È ancora uno strumento Che può essere utile Per gli artisti E oramai Spotify Ha soppiantato completamente Questa cosa Della parte musicale No Ha un senso Tant'è che ancora Anche sugli artisti Ha un fascino diverso Quello di essere Passato in radio La cosa che può fare la radio Tante volte Se è una radio particolare È quella proprio Di farti uscire Dall'algoritmo Cioè che Spotify Sicuramente funziona bene Però bene o male Ti setta su quelle Che sono le cose Che magari ti piacciono Di solito A meno che tu decidi Di andare su quelle Per scoprire qualcosa Di nuovo Però La radio ha quel Ha quel fattore umano Anche sulla scelta musicale Appunto le radio Che hanno ancora il coraggio Ogni tanto di osare Di mettere delle cose Un po' diverse Che ti propone anche Una canzone Che magari tu all'inizio Dici che cazzo è questa roba E poi magari Nel giro di un anno Diventa il tuo bene Sai cosa Spotify è una fruizione Del brano Passiva Passiva In radio c'è La fruizione Ma anche il trattamento Quindi non soltanto C'è l'ascolto Ma magari C'è l'introduzione Ti spiegano E quello fa tantissimo C'è anche una funzione Divulgativa In un certo senso Quello che fa Virgin Il tuo lavoro Sì che è quello Che proprio mi piace fare Tra l'altro Sì sì E me l'avevi raccontata Anche a cena Che eri comunque contenta Sfatta ma contenta Sfatta sempre Vabbè ormai È un mantra di tutti Penso Sfatti Per inseguire Quello che ci piace Valerione Ciao tesoro Lo ricordiamo così Sparito Grazie Grazie di tutto È un trend ormai Li allianientiamo Tu Se ne è andato sfumando Il fade out Bellissimo Straordinario Prego Aspetta che recupero Cos'è? Recupero il telefono Ah ok Già che te l'hai messa A caricare lì Dai Un altro intervento Credo che Ce la facciamo tranquillamente Vuoi vedere la chat Emily? No no Perché è tre ore Che mi guarda Guarda Proprio per leggere Sì Ciao a tutti Ciao Abbiamo un amico Sì Sì Ciao Ciao Da Londra Oh Londra Radio Londra Bellissima Che città Meravigliosa Cazzo Dimmi Bellissima Dimmi tutto Allora Allora In assoluto Voglio fare i complimenti A te Dario Ma ma Dai 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 Non ci mancherebbe Ti preoccupare tesoro Poi Avevo la domanda Allora la mia domanda Era un po' Una curiosità che avevo Allora ma quando dovete Scegliere gli ospiti In radio Lo fate in base Alla linea editoriale Della Della mettente Oppure siete liberi Di portare un po' Che volete Bellissima domanda Che è questa Top Che dici già Lu? Stiamo chattando Stiamo guardando i commenti No sì No l'ho sentita L'ho sentita No no Senti la domanda È molto interessante Allora Ovviamente devi trovare Un equilibrio Tra tutte e due le cose Cioè io cerco di invitare Gli ospiti Cioè hai preso Aspetta un attimino Hai preso in mano Un attimo la chat Tutti ti hanno scritto Come sei bella Va bellissima Straordinaria Cioè abbiamo fatto Tutto un discorso Qua Andiamo oltre Ma assurdo Ciao ragazzi Uno che si chiama Il re dello scroto Ha scritto Gianluca ingravidami Ecco vedi Come mai succedono Queste cose Nella chat E poi tra l'altro È un po' Non dovrebbe essere il contrario Se vuoi dire Ma aspettavo Cioè il re dello scroto Dovrebbe essere Mi piace Mi piace Ma ce ne sono tanti Però anche Melissa Come si sta senza clock Ormai clock è diventato Raga Ma io comunque Perennemente senza clock Non riesco a essere Però abbiamo un ascoltatore Che ci ha fatto una bella domanda Ti dicevo Secondo me bisogna trovare Un equilibrio Almeno io cerco di trovare Sempre un equilibrio Tra quello che mi piace Che mi interessa Fortunatamente siamo molto liberi Chiaramente non devi esagerare Se porti un ospite Io cerco di portare Degli ospiti Che piacciono a me Che non siano Troppo Che non siano troppo Diciamo fuori Dalla linea editoriale Della radio Poi Ripeto È una linea abbastanza larga Quindi io Cerco di portare cose Che non sono trash Per me Ma cose che abbiano Un senso Anche con Con l'immagine E quindi C'è un equilibrio Tra le due cose Poi in realtà Per quanto riguarda Magari Soprattutto gli ospiti musicali Invece Lì ancora di più Invece devi avere Magari un'attenzione Rispetto Cioè Non inviti un ospite Che magari La tua radio Non passa Come brano Nel senso Non ha senso Non è carino per lui Non è carino per la radio Stessa Eccetera Poi invece Per tutti gli altri ospiti Secondo me Devi seguire Cioè Noi fortunatamente Abbiamo la possibilità Di sceglierli E a meno che fai Una cagata atomica Puoi invitare chi vuoi Diciamo C'è un ospite Che vi ha Scusa se ti interrompo Amico mio C'è un ospite Che vi ha Grazie Che vi ha messo In difficoltà Difficoltà Sì Non difficoltà Nel senso Che non eravate Preparati O pronti a lui Ma Che magari Insomma Boh Ha creato problemi In un certo senso Senza far nome Si è messo di traverso Sì Senza far nome Però Si è capitato Un aneddoto Sai che No Fortunatamente Fortunatamente No Nel senso che Inviti di solito Gente di cui anche Ti fidi Che dice delle cose Poi è capitato Magari La cosa più difficile A volte Però fortunatamente Gli ascoltatori Sono sempre tutti in gamba Poi abbiamo una redazione Che fa un filtro Però capita ogni tanto Che magari qualcuno Ecco Come è successo Una cosa assurda Con un ascoltatore Al telefono Sotto Natale Ero in diretta Con la Vale E ci chiama questa persona Dicendo che faceva Il doppiatore Che aveva doppiato Un film in particolare Ci aveva già parlato La redazione Che filtra Come nel tuo caso Che magari fai prima Quindi sei sicuro Che non porti un matto Che dice una roba Che non c'entra niente Ci racconta Che è un attore Che ha fatto il doppiato Che ha doppiato questo film Si è stati quattro minuti Ci ha raccontato tutto E poi alla fine ha detto Comunque tutto quello Che vi ho raccontato Non era vero Come non era vero No no Perché Ma così volevo raccontarvi Una cosa Io faccio questo Ah no ma Boom E siamo rimasti Però da lì Con la pina Tra l'altro al telefono Colpo di genio Alla fine diventa Tutta una puntata Chiamateci E diteci Chi non siete Inventate la vostra vita Sono risposte sbagliate Quella roba lì E tutti chiamavano Inventandosi la loro vita Bellissimo Quindi anche quando ti capita Diciamo Quando ti capita Diciamo Una disavventura Devi portarla In qualche modo A tuo favore Io una volta Ho faticato tanto Con un panno fino Ma va Sì perché A parte che secondo me Non era Tanto volenteroso Di fare l'intervista Rispondeva a mezza bocca Un po' svogliato E poi c'era dietro Un camion Della spazzatura Che ha fatto Una manovra Di un quarto D'ora Venti minuti Quindi Pi Pi Ma va Che è possibile Appena succede qualcosa Di tecnico su Twitch Te lo scrivono Tutti Vedi quello che dicevo prima È stata dura Però si è portata a casa Sì 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 No Diciamo allora Magari difficoltà tecniche Può essere capitato Però altre cose Dai Gente che Che non A me in radio Sinceramente non è successo A parte che io non ho La possibilità Di avere ospiti E se avessi questa possibilità Ovviamente farei Una via di mezzo Tra ciò che mi interessa Perché sennò Non avrebbe neanche senso E l'indirizzo E l'identità della radio Questo è necessario Ma te lo chiede anche la radio stessa Non è che puoi fare Quello che ti pare Ok In radio comunque Non mi è successo Di sentirmi A disagio Con qualcuno Con niente di più In televisione In televisione sì Mi sono incartata un attimo In televisione sì Hai avuto difficoltà quando? No vabbè Ma una volta Sì beh tanto Questo grande attore Non c'è più Visto quelli Ma è morto Sì non c'è più Ma mi ricordo Una puntata Di quelli che è il calcio In collegamento Con Paolo Villaggio Che non voleva Assolutamente collaborare Zero Non gliene fregava un cazzo Se era la giornata Stata Aspetta chi era? Paolo Villaggio Ah Tu hai avuto ospite Era in collegamento Allo stadio Ma scusami In che anno? Uno degli ultimi anni Ma? Sì 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 Mi ricordo che è stata Piuttosto dura La situazione Sì sì Poi faceva battute Veramente Soprattutto gli ultimi anni di vita Non gliene fregava più una sega Faceva delle battute Tremende Senza filtro Tremende Perché tanto Sono vecchio Dico Sono Paolo Villaggio Faccio quello che voglio Rispetto totale Però c'è il modo in modo Nel senso che uno può fare Anche lo show Però a favore dello show Non contro Ti capisco Però io sono più Per la dissacrazione totale Però capisco anche Il tuo punto di vista Guarda Ci avrei giurato Perché dici Te raccontate qualcosa Deve viaggi in Giappone Hai a che fare con Delle persone che stanno lavorando Ok Io ti rispetto Perché sei un artista Immenso E sempre lo sarai Però devi avere anche Il rispetto delle persone Che stanno lavorando con te Sono d'accordo con Sì diciamo che Non è vero Non la pensi così Sono d'accordo con te Però il fascino Di trollare È Troppo forte Capisco eh Trollare Sì Fascino di scherzare Di sacrare A me infatti Piacciano gli ospiti Quelli Ti ricordi A quelli che al calcio C'è stato Credo il troll Migliore di sempre A Simona Ventura Chi Non erano i Oh cazzo La band Ah beh I news I news Che si sono rifiutati No Che si erano Sono scambiati i posti Matt Bellamy Si era scambiato il posto Col batterista Perché essendo in playback Era la sua forma di ribellione Loro non volevano essere in playback Allora si erano messi apposta A fare un disperto Però nessuno si era accorto A me o nessuno Si erano immobilizzati I disco music Grande Quella mai Io parlo tipo di ospiti Che sono schegge impazzite Che non sai mai dove vanno Quella roba Affascina parecchio Invece una volta c'è stata Una scheggia impazzita Ma è stata a favore Ecco questo è l'esempio positivo È arrivato improvvisamente Fiorello in diretta E passava di lì E cosa fai? Non lo prendi Fiorello in diretta? Abbiamo preso la scaletta L'abbiamo buttata nel cesso Ok Quello che avevamo intenzione Di fare oggi Non si fa più Arriva Fiorello E ci siamo goduti Un'improvvisazione Penso di un'ora Di trasmissione È incredibile A quelli che è il calcio Era il 2018 Se non sbaglio C'era ancora in conduzione Nicola Sì È stato bellissimo Dice la chatte Sgarbi Infatti a me piace Perché non sai mai Dove può andare Funari Funari era il mio dio Il mio dio Mi garbava troppo Signora Mi si buttava nel pubblico Ecco la roba Lì fa impazzita Sgarbi quotidiani Ti ricordi? Certo Topperia lì Vabbè Quello poi C'è tutto su Rayplay Comunque Vedi Grande fan Delle techerai Le techerai Sono patrimonio Dell'umanità Potremmo ogni UNESCO Bene Allora facciamo L'ultimo intervento Perché poi siamo in chiusura Te lo giuro morissimo Ma avevamo fatto due ore Sì Mizz Va bene Grazie ragazzi Grazie a te Ciao 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 Ormai siamo ascoltati La presenza di ascoltatori Assurda Degli ascoltatori Degli ascoltatori Degli ascoltatori Tu sei già in radio Tu sei l'uomo di radio Mamma mia Solo che sai che oggi Non troverai mai una radio Che ti fa fare magari Un programma verticale Sui fumetti Mamma mia godrei Domani mattina firmerai Non lo so Zero No però Puoi declinare la cosa In modo più largo Nel senso che magari Per te è una noia Perché conosci già l'argomento Però può essere un modo Per iniziare Le persone che non conoscono Questo fantastico mondo In modo un po' più largo Io cito sempre Il programma meraviglioso Con Neri Marco Re Per un pugno di libri Bellissimo Ha insegnato tantissimo A tanti Un grande veramente Ho avuto anche L'onore di intervistarlo È stata un'intervista meravigliosa Tra l'altro Mi sei scaricato il telefono Durante l'intervista L'ha riattaccato E si è attaccato Con il cellulare Attaccato al muro Una cosa meravigliosa Ma che sto fanno A non distrarti con la chat Perché poi ti metti A vedere i commenti Con la chat mi fa ridere No però io Spendere le ego due o tre Poi vengo assorbito totalmente Non devo più guardarla Io ormai faccio così Cioè riesco a Poi la leggo A una velocità della luce Ma tu a quella velocità Riesci anche a riconoscere Chi ha già scritto Certo Ma io ormai dal Nick Capisco che tono avrà In che situazione Lui sta cambiando Perché ci sono persone Che davanti all'argomento Che amano Diventano immediatamente seri Ma solo quell'argomento Tutti gli altri dieci trovano Cazzeggio Oppure c'è quello affezionatissimo Quello dolcissimo Quello invece che Va un po' a seconda della chat E si fa trascinare Gli audio non ci sono su Twitch No Però su Telegram Chiaramente ci mandiamo audio Perché io c'ho il gruppo Telegram Degli abbonati Siamo quasi 6 mila E riesci a fare Streaming Telegram E Twitch contemporaneamente E tutto E tutto E tutto Esatto Sì perfetto E rigarba troppo il pubblico No beh è bello Quello che fa la differenza Cioè la cosa veramente bella Anche il radio È quella di avere Il contatto con il pubblico Beh guarda che questa sensibilità Chiama la empatia Quello che vuoi È un talento Totale E c'è anche Discord Me lo stavo scordando Me lo ha ricordato la chat Io ogni tanto la notte Dopo la live Vado su Discord Scusa Non riesco Non riesco Comunque sai che Prima hai citato cordialmente E finalmente Gioco di parole Due mesi fa Tre mesi fa Sono riuscito a assistere Dal vivo alla puntata Che era un mio sogno Perché poi c'era stato Il covid di mezzo Cordialmente Non l'hanno fatto Per tanti anni L'hanno ripreso Adesso c'è cordialmente Anzi c'è cordialmese No cordialmente Quattro stagioni Perché ce n'è uno A stagione E devo dire Che è stato molto bello Perché Adesso mi collego A queste freddure Però Gli fanno davvero Fanno veramente Troppo ridere Ma hai visto Dario su Discord Di venire la notte Il pomeriggio Passo raramente E la notte Ci sono molto spesso Ultimo intervento E poi chiuderei Prego Sto andando via anche di voce Oggi ho parlato Tutto il giorno Maledizione Ciao Darione Ciao bello Buonasera I tuoi ospiti Sono Proxoul Ciao Sembra un farmaco Proxoul è un programmatore Di videogiochi Grande cazzo Grande stima Prego Ciao ai tuoi ospiti Ho fatto anche serata Con Proxoul Mio padre assoluto Ah ok Sì sì Mi frega un cazzo Sono curioso Per chi si ricorda Della live Che empatico che sei Hai capito subito Io vado in chat Scusami Proxoul Io vado in chat Drogato di chat Anche i cazzoli È finito ragazzi Vai Allora Io sono un game designer Nella vita Quindi faccio questo Di professione Ma ho anche studiato Regia e sceneggiatura E dopo molti anni Dove desideravo farlo Finalmente sto mettendo Su uno studio in casa E dal prossimo mese Lancerò il mio canale Twitch Dove vorrei Unire questi due Macro argomenti Quindi cinema e videogiochi Parlandone in maniera Molto professionale Considerando La vicinanza Della radio con Twitch Come voi stessi Avete detto prima La domanda che vi faccio È Se poteste dare un consiglio Ai voi stessi Degli esordi Quale consiglio Vi dareste? Cioè qualcosa Che sapete Ora Solo grazie Alla vostra Esperienza E che sarebbe Un aiuto prezioso Per chi Vorrebbe Iniziare A farlo sul serio Vai Gianluca Perché mandi sempre avanti Prima a me Vado io? Di fidarti di più Del tuo istinto E ascoltare meno Cioè Ascolta anche tu Quella avucina Che c'è dentro Che ti dice Ma secondo me Le cose Bisogna anche un po' Andare in questa direzione Non Cioè Rimani sempre fermo Su il tuo istinto Anche sempre Ascoltando gli altri Però Devi fidarti un po' Anche di quello che ti dice Tu non hai Le basi qua Cioè tipo Una cosa che mi piace Tanto in radio È giocare con gli effetti Con le robe Con le vox È bello Ho avuto un momento Cioè un immaginamento Allora io adesso ti dico Una roba Se fossi in radio Nel mio programma Chiederei al mio regista Anzi lui ormai Mi capirebbe Perché la figata Che poi dopo un po' Si instaurano Delle cose E metterei questo tema qua Aspetta Non so Facciamo una simile Una simile Io ho avuto una parentesi Con gli effetti No effetti Non tipo il piatto Mettevo solo scuagge No non quegli effetti lì Lo devo togliere Gli effetti sono Io metto o i vox O dei vox Che ritornano Che diventano tormentoni Prendo anche delle cose Che arrivano dai meme Perché mi piacciono tanto Quindi cos'hanno scritto Io ho avuto un periodo Che Cos'hanno scritto nella chat Non voglio sapere Non ho un effetto Ma mi fa ridere Perché ride Proprio come di gusto Sì Perché mi hanno ricordato Un effetto che mettevo sempre Che era Un rumore fastidiosissimo Non so dove l'avevo trovato Che era No però io non dico Quegli effetti Questi sono fastidiosi Ma non è quei No io mettevo dei tormentoni Tipo c'è stato un periodo Che mettevo sempre Trump Che diceva Billions Billions Esatto Queste cazzate qua Io c'ho sempre E poi spesso sono audio Di ascoltatori Che mi dicono cose Diamo se è questa Aspetta che c'è la pubblicità Che non voglio fare la pubblicità Ma non c'è problemi No vabbè dai Vabbè cazzo Scusami hai ragione Non ci avevo fatto caso No che Aspetta che parte così Dico proprio Ok È il clock Gianluca È il clock Se io Forrest Gump Ma mi straicano La puntata Sì Per così poco Sì poi tra l'altro Il cazzo di algoritmo È sbagliatissimo Quindi capace Taglia la parte centrale Ma cazzo Allora non puoi avere le basi Figa Tu non puoi Ci voglio avere i copyright Quelle fatte apposta Ma non ho capito Gianluca Volevi farmi il discorso motivazionale Bravo Bravo Tu immagina di Forrest Gump Immagina di Forrest Gump Ok Me lo immagini in testa Se tornassi indietro Mi sposo No allora la base è più bassa Ma la base non può andare sopra la voce Mi sposo con te solo Quando ho preso la hit È vero No è che io tipo all'inizio avevo fretta E dicevo cacchio Vedevo quelli che magari Mi Non so da un giorno con l'altro Prendevano un milione di followers Io dicevo cazzo ma perché questo Ha fatto questo Ma perché ha fatto questo Ma perché ha fatto quest'altro E poi invece la maggior parte di queste persone Non esiste più Non perché è morta Ma perché semplicemente Non ha fatto tutto il percorso che doveva fare E quindi di conseguenza Nel passato E a chi inizia questo percorso Gli direi Quello che dicevamo prima Non esistono scorciatoie E ogni cosa che farai Anche quelle che ti staranno di più sul cazzo Vedrai che Dopo Capirai Che ti torneranno utili Perché i puntini della vita si uniranno E ti mostreranno un disegno bellissimo Quindi abbi fiducia Grazie Gianluca Grazie Gianluca Io prenderò questo tuo consiglio Andava bene Non posso che non essere soddisfatto Io però voglio sapere come si programmano i videogiochi Che è un'altra cosa Che a me mi ha passato Ecco io sto Io provo a parlare Io nel mio programma Cerco di parlare anche ogni tanto di queste cose qui Io in realtà Nasco programmatore Perché sono laureato in informatica Tu sei una persona intelligentissima Ma in realtà Faccio il game designer Quindi io li progetto i videogiochi Grande Però potrebbe essere Madonna Madonna Sì è incredibile Grazie mille Bello Grande Proxhole Ci si vede in chat Grazie Grazie Dario Grazie Enzo Paolone Ciao 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 Enzo Paolone Perché a me hanno detto di chiedere Cutto Se mi sto divertendo Va bene Io Io ragazzi Ma sono delle trappole Amici della chat Non mi dovete Fare le trappole Non guardarlo Tu non guardarlo No No Basta Basta Non si possono mandare le foto Allora C'è uno che mi ha scritto Su Instagram E fa No Dario hai invitato La mia crush dell'adolescenza Pazzesco Ah io non sono così vecchia Tu sei già crush Ragazzi Sei già una crush Delle adolescenze Vuol dire Quanti anni hai te? Sono dell'85 Quindi quanti anni ho? 37 Come fai? Sei già una crush Di un'adolescenza Io sono un crush test Tante volte ho fatto il crush test E questo è il risultato Comunque ringraziamo Gianluca e Merissa Per essere stati qui Grazie Dai appuntamento Quando ti si può sentire Aspetta Vi volevo ringraziare veramente di cuore Perché è stata parte educativa A bestia È stato Secondo me è servito un botto Anche a chi ci ha seguito Un plauso anche agli interventi Che sono stati i migliori Di ogni Delle puntate precedenti Ti ringrazio Perché hai iniziato sta settimana No 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 In realtà è già un mesetto E gli interventi Non sono mai stati così on point E non sono mai stati così Tutti belli Cioè magari c'era un piccolo neo Uno un po' più sporco Eccetera Stavolta sono state tutte domande Tutte persone fresche E voi avete fatto un lavoro Meraviglioso È stato un appassionante sentire Per ascoltare le vostre esperienze Il vostro lavoro Chiamala a radio Ed è stato bello ospitarvi qua A Ponte d'Era Bello Ma sai che grazie Perché io mi sono sinceramente Molto rilassata e divertita Sì anch'io Insomma se non ti accorgi Che sono passate due ore Un buon segnale Sì Siamo già due ore e cinque Ne approfitto Per invitare Allora al basement Sei già stato ospite Bellissimo Ma ti invito ufficialmente A Radio DJ Nel mio programma Il GG Show Quando vuoi tu Dimmi tu un giorno Mettiamoci d'accordo Vengo sicuro E insomma Mi farebbe molto piacere Volentieri Purtroppo non potremo Chiacchare due ore Però sarà comunque molto bello Ciao Tario Questo è tutto posto Sì 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 Ma adesso ascoltiamo Il nuovo pezzo No beh dai Già che sarai a Milano Ovviamente mi passi a trovare Fa il tour radio Fa il tour radio E poi si va insieme Da Cruciani A fare un po' di così Porto anche la mia moglie Però io non posso Perché sono in onda E in quel momento Devi scegliere Devi scegliere Vabbè un'ora è un'ora Perché poi faccio Giro Cruciani Poi vado anche da Apparenzone Così si dichiara L'amore per Apparenzone Insomma c'è un po' di tutto Facciamo un giro di radio Completo Ragazzi io vi ringrazio ancora Vi abbraccio forte E io stacco Stacco ora Non faccio il video Salutiamoli Grazie Aspetta vi inquadro Vai Cosa Che succede Salutate È un meme Ah ok Non si capiva Allora dai Dai le coordinate Dai le coordinate Quali sono le coordinate E tu E quando ti si può sentire Quando come Da lunedì al venerdì Dalle 18 alle 20 Su Virgin Radio E poi Il weekend Non staccate Perché c'è Gianluca Sì Tanto salutiamo anche Andrea Andrea Rocco Andrea Rocco Spagno di avventura E amico Noi ci sentiamo Se vi va Tra l'altro Già domani Su Radio DJ Dalle 14 alle 16 Con il GG Show Domani ho invitato Norton Lo conosci Norton? Sì Quello dell'antivirus Il virus Esatto Pensavo di cesta Edward Vi aspettavo su Edward Norton No è un designer Uno dei pochi italiani Che ha fatto un set Lego Fighissimo Nuovo Molto bello La baita La baita Quello ha fatto a capanna Sì Quello quello Molto molto bello E poi Sì sentiamo al basement Seguite basement O Instagram Io però Prima di staccare Oggi niente gaming Ragazzi perché sono andato Stamattina mi sono svegliato All'otto Sono andato a Milano Ho fatto il podcast con Fedez Sono tornato qua Ho fatto questa Spoiler Ah si potrebbe dire Sì Tanto è stato fighissimo Poi vi racconterò domenica E io sto per morire Perché tu di solito finivi Andavi anche a giocare Certo alle due Però ho dormito quattro ore Ho fatto tre ore e mezzo Andato tre ore e mezzo A tornare Io non ce la faccio più Però sei carico E non si vede Bravissimo Ho preso 300 caffè Però prima di questo Grande annuncio Intanto vi ringrazio Faccio venire qui in Mazzola Ma potete restare In realtà perché tanto Il punto camera è questo Vieni vieni Mazzola Bisogna fare un annuncio Prima di chiudere Sei incinta No Che succede Grande annuncio Grande annuncio In realtà L'abbiamo già L'abbiamo già spoilerato Su Instagram È già uscito su Instagram Comunque vai te Vai te Vado io Vai 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 Allora per chi non l'avesse visto Su Instagram Niente Oggi abbiamo finalmente Dopo qualche mese Tre mesi buoni Tre mesi buoni Farà una collaborazione Per la realizzazione Di questo evento Insieme a Giffoni Innovation Hub Che ha notato Creator District È venuto in loco Ha detto Che bello evento Perché non cerchiamo Di fare un evento A tema videogiochi Anche noi Una sorta di spin off Delle altre fiere Degli altri eventi Che organizzano E un evento On point Sui videogiochi E ha chiamato noi Per organizzare Una roba Diciamo che È la roba Che mi ha entusiasmato Subito È stata abbastanza L'affinità Che abbiamo trovato Subito con ragazzi Tratto Giffoni Hub On point Si è anche usato L'inglesismo On point On point Sul punto Magari conoscete Giffoni Film Festival Che è un grande Festival storico Ecco Giffoni Hub Fa parte Della struttura Organizzativa Di Giffoni Film Festival È diciamo Una branchia E hanno voluto investire Su questo nuovo evento La roba figa Che sarà su due giorni Sarà un prezzo Super accessibile Dei biglietti Ma si può dire Anche prezzi di biglietti Sì Ci dovrebbe già Trovare qualcosa Però aspettiamo Un attimino Ora Come Da tradizione Del creator district Dario Sarà il Direttore artistico Io mi occuperò Invece Tutta la parte Più gestionale Quindi A livello tecnico Eventistico E quant'altro Più tutti i ragazzi Di Evox Più tutti Tutto il team Che già avete conosciuto E già avete visto Quanto possiamo dare E Dario ride Che devo fare? Piange E non lo sapete La rider Ci saranno Dei grandi ospiti Ci saranno Degli eventi A tema La cosa figa È lo spirito È la volontà Di questa manifestazione Perché Vuole proprio Parlare Come non si faceva Da anni In Italia Di videogiochi Quindi Non sarà Diciamo La solita Fiera Standard Del solito evento Che si trova A giro Ma sarà Un qualcosa Di figo Di intrattenente Di Non posso Sono generale Perché al momento Non posso Raccontare oltre Però insomma Restate aggiornati Sui social Seguite Gifoni Good Games Che mi sono scordato Non ricordo Se avevo detto il nome Gifoni Good Games Quindi G G Come Creator District Aggiorneremo Continuamente Con gli eventi Gli ospiti I palchi Qualsiasi tipo Di attività Che ci sarà Questo Gifoni Good Games E speriamo Di riportare In Italia Una fiera Che effettivamente Parla A videogiocatori Che parla Svrattutto di videogiochi Di videogiochi In una certa maniera Ecco Grazie mille ragazzi Comunque trovate il reel Su Instagram E seguite la pagina Il suo Gifoni Insomma Ora Inizierete a vederlo Un po' ovunque C'è il sito Andate ovunque Ma siete in buone mani Insomma Grazie mille ragazzi E buonanotte a tutti Grazie di averci seguito Noi ci vediamo Domenica Perché domani È cascato il cazzo Perché è stata Bella Molto bella Questa è stata Molto bella Ok Allora Un attimino Dicevo Vado Buonanotte Sabato faccio pausa Domani vado a rilassare Un attimo E poi Domenica 21.45 No che è 21.45 Ho cambiato il palinzesto C'è la prima Liveona Della domenica Del nuovo palinzesto Si parte dai 18 Punto iscriviti al palinzesto Per scoprire tutti I clock Di domenica Grande Imparato subito Ciao ragazzi Buonanotte Ciao bimbi Ciao 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 iscriviti al canale